Nel cortile dell'ospedale c'è un piccolo padiglione, circondato da tutto un bosco di lappole, di ortica e di canapa selvatica. Il suo tetto è rugginoso, il tubo del camino è a metà crollato, gli scalini della scala principale sono marciti, è già cresciuta l'erba e dell'intonaco sono rimaste soltanto le tracce. La facciata anteriore è rivolta verso l'ospedale, quella posteriore guarda nella distesa dei campi verdi da cui lo separa il grigio recinto dell'ospedale, tutto chiodi. Questi chiodi con le punte rivolte all'insù e il recinto e lo stesso padiglione hanno quello speciale aspetto triste che da noi hanno soltanto le costruzioni ospedaliere e carcerarie. Se non avete paura di bruciarvi alle ortiche andiamo per lo stretto sentiero che porta al padiglione e guardiamo che vi si fa dentro. Aperta la porta entriamo nel vestibolo. Qui, lungo le pareti e accanto alla stufa, sono ammucchiate intere montagne di rifiuti d'ospedale. Materassi, vecchie vesti da camera a brandelli, pantaloni, camicie a righe azzurre, scarpe logore inservibili, tutto questo cenciume gettato alla rinfusa, calpestato, mescolato, marcisce ed esala un odore asfissiante. Su questo mucchio di rifiuti, sempre con la pipa tra i denti, sta sdraiato il custode, Nikita, vecchio soldato in conredo, dai galloni diventati rossicci. Egli ha una faccia dura smunta, delle sopracciglia spioventi, che danno al suo viso l'espressione di un montone della steppa, e il naso rosso. È di piccola statura ad aspetto magro e muscoloso, ma il suo apportamento è imponente e i suoi pugni solidi. Appartiene al numero di quegli uomini, semplici, positivi, buoni, esecutori e ottusi, che più di tutto al mondo amano l'ordine e perciò sono convinti che bisogna picchiare. Egli picchia sulla faccia, sul petto, sulla schiena e su quel che gli capita, ed è convinto che altrimenti qui non ci sarebbe ordine. Più in là, entrate in una grande, spaziosa sala che occupa tutto l'edificio, se non si calcola il vestibolo. Le pareti vi sono dipinte in una tinta blu sporca, il soffitto è affumicato come in una capanna senza camino. È chiaro che qui d'inverno le stufe fumano e ci si sente asfissiare. Le finestre sono deturpate all'interno da grate di ferro. Il pavimento è grigio, è tutto scheggiato. C'è puzzo di cavolo acido, di stoppino fumoso, di cimici ed ammoniaca e questo puzzo nel primo momento vi dà l'impressione di entrare in un serraglio. Nella sala ci sono dei letti avvitati al pavimento. Su di essi stanno seduti o colicati degli uomini, con l'azzurra veste da camera dell'ospedale e all'uso antico coi berretti da notte. Sono dei pazzi. Ce ne sono in tutto cinque, solo uno di condizione nobile, gli altri borghesi. Il primo venendo dalla porta, un borghese alto, sparuto, coi baffi rossicci, gli occhi luccicanti e lacrimosi, sta seduto tenendosi il capo e guarda fisso in un punto. Giorno e notte egli è triste. Scrolla la testa, sospirando e sorridendo amaramente. Tirado, grande parte alle conversazioni e alle domande. Di solito non risponde. Mangia e beve macchinalmente, quando gliene danno. A giudicare dalla tosse tormentosa che lo scuote, dalla magrezza e dal rosso delle guance, ha i primi sintomi della tubercolosi. Dopo di lui sta un vecchietto piccolo, vivace, assai mobile, con una barbetta a punta e i capelli neri e ricciuti, come quelli di un negro. Di giorno passeggia per la sala da una finestra all'altra, o se ne sta seduto sul letto, con le gambe incrociate alla turca e il requieto, come un fringuello. Fischietta, canta sottovoce e ridacchia. La sua gaiezza infantile e il suo carattere vivace, egli li rivela anche di notte quando si alza per pregare Dio, cioè per battersi il petto coi pugni e grattare la porta col dito. È costui l'ebreo Moiseica, uno scemo impazzito una ventina d'anni fa, quando andò in fiamme la sua fabbrica di cappelli. Di tutti gli abitanti della sala numero 6, soltanto a lui è permesso di uscire dal padiglione e perfino dal cortile dell'ospedale sulla strada. Di tale privilegio egli gode da gran tempo, probabilmente come vecchio ospite dell'ospedale, è scemo tranquillo e innocuo, trastullo della città che da un pezzo si è abituata a vederlo per le strade circondato dai monelli e dai cani. In una miserabile veste da camera, un ridicolo berretto da notte in pantofole, a volte scalzo e perfino senza pantaloni, egli gironzole per le strade e si ferma ai portoni alle bottegucce a chiedere una copeca. In un posto gli danno del cvas, in un altro del pane e in un terzo una copeca, così che di solito egli ritorna al padiglione sazio e ricco. Tutto quel che egli porta con sé glielo toglie Nikita a proprio vantaggio. Il soldato facciò brutalmente, stizzito, rivoltandogli le tasche e chiamando Dio a testimone che mai più lascerà uscire l'ebreo sulla strada e che il disordine è per lui quanto c'è di peggio al mondo. A mosaica piace essere servizievole, porge l'acqua ai compagni, li copre quando dormono, promette di portare dalla strada una copeca per ciascuno e di cucire a ciascuno un berretto nuovo. Dà anche da mangiare col cucchiaio al suo vicino di sinistra, un paralitico. Agisce così non per compassione, non per una qualsiasi considerazione d'indole umanitaria, ma per imitare e sottomettersi involontariamente al suo vicino di destra, Gromov. Ivan Dmitrich Gromov è un uomo sui 33 anni, nobile ex uscere giudiziario e segretario al governatorato. Soffre di mania di persecuzione. Egli o giace sul letto raggomitolato su se stesso o cammina da un angolo all'altro come per fare del moto. Seduto ci sta assai di rado. È sempre eccitato, inquieto e in uno stato di tensione, in attesa di qualcosa di confuso, indefinito. Basta il più piccolo fluscio nel vestibolo o un grido nel cortile, perché gli sollevi la testa e tenda l'orecchio. Vengono a chiamar lui? Non cercano? Lui? E il viso esprime un'estrema inquietudine e ripugnanza. Mi piace il suo viso largo, coi grandi zigomi, sempre pallido e addolorato, che riflette come in uno specchio l'anima tormentata dalla lotta e dal persistente terrore. Le sue smorfie sono strane e morbose, ma i tratti delicati, impressi al suo viso da una profonda e sincera sofferenza, sono ragionevoli e intelligenti, e gli occhi hanno un riflesso caldo e sano. Mi piace anche di lui come persona, così affabile, servizievole e oltremodo delicato nei suoi rapporti con tutti, eccetto che con Nikita. Se qualcuno lascia cadere un bottone o il cucchiaio, egli salta in fretta giù dal letto e lo raccatta. Ogni mattina dà il buongiorno ai compagni, andando a dormire, augura loro la buona notte. Oltre che nel continuo stato di tensione e nel fare smorfie, la sua follia si manifesta anche in qualche altra cosa. A volte di sera, egli si avvolge nella sua veste da camera e, tremando in tutto il corpo e battendo i denti, comincia a camminare in fretta da un angolo all'altro e fra i letti. Sembra che abbia la febbre forte. Da come si ferma all'improvviso e lancia sguardi ai compagni, si vede che vorrebbe dire qualche cosa di molto importante, ma evidentemente, considerando che non lo ascolterebbero o non lo capirebbero, scuote con impazienza la testa e continua a camminare. Ma presto il desiderio di parlare prende il sopravvento su qualsiasi considerazione ed egli si abbandona e parla con calore e passione. Il suo discorso è disordinato, febbrile, come un delirio, a scatti e non sempre comprensibile, ma vi si sente, e nelle parole e nella voce, qualcosa di straordinariamente buono. Quando parla, riconoscete in lui il pazzo e l'uomo. È difficile produrre sulla carta il suo folle discorso. Parla egli della bassezza umana, della violenza che calpesta il diritto, della vita bellissima che col tempo ci sarà sulla terra, delle inferriate alle finestre che gli ricordano ad ogni minuto la stupidità e la crudeltà degli oppressori. Ne viene fuori un disordinato, sconnesso guazzabuglio di motivi vecchi, sì, ma non ancora cantati fino in fondo. 12-15 anni orsono viveva in città, sulla strada principale e in una casa propria, l'impiegato Gromov, un uomo posato e agiato. Egli aveva due figli, Sergei e Ivan. Quando era ancora studente del quarto corso, Sergei si era ammalato di tisi galoppante ed era morto, e questa morte era stata come il principio di tutta una serie di sventure che a un tratto si erano abbattute sulla famiglia Gromov. Una settimana dopo i funerali di Sergei, il vecchio padre era stato rinviato a giudizio per frode e peculato e presto era morto di tifo all'ospedale della prigione. La casa e tutta la mobilia erano state vendute all'asta e Ivan Dmitrich e sua madre erano rimasti del tutto senza mezzi. Prima, quando il padre era vivo, Ivan Dmitrich, che viveva a Pietroburgo per frequentarvi l'università, riceveva da 60 a 70 rubli al mese e non aveva saputo cosa fosse il bisogno. E così gli era toccato di cambiare bruscamente il tenore di vita. Aveva dovuto dare dal mattino alla sera lezioni per pochi soldi, occuparsi di copiatura e tuttavia soffrire la fame, dato che tutto il guadagno lo mandava alla madre per il suo sostentamento. Ivan Dmitrich non aveva sopportato una simile vita, si era perduto d'animo, era diventato malaticcio e lasciato l'università, se ne era tornato a casa. Qui, nella cittadina, per mezzo di protezioni, aveva ottenuto un posto di insegnante nella scuola del distretto, ma, non andando d'accordo con i colleghi e non piacendo agli scolari, ben presto aveva lasciato l'impiego. La madre era morta, per sei mesi, ed era rimasto senza posto, nutriendosi soltanto di pane ed acqua. Poi era entrato come usciere al tribunale. Aveva occupato questa carica fino a che non era stato licenziato per malattia. Mai, neppure nei suoi giovani anni di studente, aveva dato l'impressione di un uomo sano. Era sempre pallido, magro, soggetto a infreddatura. Mangiava poco, dormiva male. Un bicchierino di vino gli faceva girare la testa e gli percurava una crisi di nervi. Era sentito sempre attratto dalla compagnia, ma, a causa del suo carattere irritabile e diffidente, non era diventato intimo di nessuno e non aveva avuto amici. Sui concittadini si pronunciava solo con disprezzo, dicendo che la loro glossolana ignoranza e la loro vita animale sonnacchiosa gli sembravano abiette e ripugnanti. Parlava con voce tenorile, alta e calorosa, e non altrimenti che con disgusto e indignazione, oppure con entusiasmo e meraviglia, ma sempre sinceramente. Di qualunque cosa gli si parlasse, metteva sempre capo allo stesso punto, che è opprimente, cioè è noioso vivere in città, che la società non ha interessi elevati, conduce una vita opaca, assurda, variata soltanto dalla violenza, dalla grossolana depravazione e dall'ipocrisia. I furfanti sono sazi e vestiti, gli onesti invece si cibano delle briciole. Ci vogliono delle scuole, un giornale locale di tendenza onesta, un teatro, delle letture pubbliche e la fusione delle forze intellettuali. È necessario che la società prenda coscienza di sé e ne abbia orrore. Nei suoi giudizi sugli uomini adoperava colori densi, solo il bianco e il nero, senza ammettere sfumature. L'umanità si divideva per lui in onesti e furfanti. Non c'era via di mezzo. Delle donne e dell'amore parlava sempre appassionatamente, con entusiasmo, ma non era mai stato innamorato. In città, nonostante la sprezza dei suoi giudizi e la sua nervosità, gli volevano bene e in sua assenza lo chiamavano affettuosamente vania. La sua innata delicatezza, il carattere servizievole, l'onestà, la purezza dei costumi e la redingotte logora, l'aspetto malaticcio e le sventure familiari, ispiravano un sentimento di bontà, di tenerezza e di tristezza. Inoltre, egli era ben istruito, aveva letto molto e, secondo l'opinione dei suoi concittadini, sapeva tutto e passava in città per una specie di enciclopedia. Egli leggeva moltissimo. Spesso sedeva al circolo tirandosi nervosamente la barbetta e sfogliava riviste e libri, e dal suo viso si vedeva che non leggeva ma inghiottiva senza aver tempo di masticare. Bisogna pensare che la lettura fosse una delle sue abitudini morbose, poiché egli si gettava con la stessa avidità su tutto ciò che gli cadeva sotto mano, anche su vecchi giornali e calendari. A casa leggeva sempre stando coricato. Una volta, una mattina d'autunno, col bavero del cappotto tirato su e pestando il fango per vicoli e cortiletti sporchi, Ivan Dmitrich era andato da un certo borghese per ricevere del denaro in base a una sentenza. Il suo amore era tetro, come sempre la mattina. In un vicolo si era incontrato con due arrestati in catene, scortati da quattro soldati coi fucili. Per là dietro Ivan Dmitrich aveva incontrato spessissimo degli arrestati, e ogni volta gli avevano ispirato un sentimento di compassione e di disagio. Ma questa volta l'incontro gli aveva fatto un'impressione specialmente strana. Era parso tutto a un tratto, chissà perché, che anche lui avrebbero potuto mettere in catene e trascinarlo per il fango in prigione. Dopo essere stato dal borghese, mentre tornava a casa, aveva incontrato presso la porta un ispettore di polizia suo conoscente, che lo aveva salutato e aveva fatto con lui alcuni passi nella strada, e chissà perché questo gli era sembrato sospetto. A casa per tutta la giornata non gli erano usciti di testa gli arrestati e i soldati coi fucili, e una incomprensibile inquietudine dell'animo gli aveva impedito di leggere e di concentrarsi. La sera non aveva acceso il lume, e la notte non aveva dormito, pensando sempre che lo potevano arrestare, incatenare e mettere in prigione. Sapeva di non avere sulla coscienza alcuna colpa, e poteva garantire che anche in avvenire non avrebbe né ucciso, né incendiato, né rubato, ma è forse difficile commettere un delitto fortuitamente, senza volere, e non è forse possibile una calunnia, e infine, un errore giudiziario. Non per nulla, infatti, la secolare esperienza popolare insegna che dalla bisaccia del pezzente e dalla prigione non è garantito nessuno. Quanto a un errore giudiziario con l'attuale procedura è possibilissimo, e non sarebbe nulla di eccezionale. Le persone che per le loro funzioni vengono a contatto con la sofferenza altrui, per esempio i giudici, i poliziotti, i medici, con l'andar del tempo per forza d'abitudine, si induriscono a tal punto che anche senza volerlo trattano i loro clienti soltanto in modo formale. Da questo lato non differiscono per nulla dal contadino che nelle retrocorti sgozza i montoni e i vitelli e non fa caso al sangue. Dato il suo atteggiamento formale, sfietato verso la personalità, per privare un innocente di tutti i suoi diritti e sostanze e mandarlo ai lavori forzati, al giudice occorre una sola cosa, il tempo. Solo il tempo di applicare quelle tali formalità per cui a un giudice pagano lo stipendio e poi tutto è finito. Cerca poi giustizia e difesa in questa piccola sporca cittaduzza a 200 verste dalla ferrovia. E non è ridicolo pensare alla giustizia quando ogni violenza è accolta dalla società come una necessità ragionevole e rispondente allo scopo e ogni atto di clemenza, per esempio un verdetto di assoluzione, suscita una vera esplosione del sentimento di malcontento e di vendetta. Il mattino seguente Ivan Dmitrich si era alzato pieno di spavento, col sudore freddo in fronte, ormai convinto che lo potevano arrestare da un momento all'altro. Se i penosi pensieri di ieri non mi hanno lasciato per tanto tempo, pensava, vuol dire che in essi c'è una particella di verità. Non potevano infatti venirmi in mente senza alcun motivo. Un poliziotto senza affrettarsi passa sotto le sue finestre. Non è per nulla. ecco, due uomini si sono fermati presso la casa e tacciono. Perché tacciono? E per Ivan Dmitrich erano subentrati giorni e notti di tortura. Tutti quelli che passavano sotto le sue finestre e che entravano nel cortile gli parevano spie o agenti della polizia segreta. A mezzogiorno di solito il capo della polizia locale passava per la strada in carrozza a due cavalli. Andava dal suo podere fuori città alla direzione di polizia. Ma ad Ivan Dmitrich era cominciato a sembrare che gli andasse troppo in fretta e con una certa espressione speciale, evidentemente per andare ad annunciare che in città era comparso un grosso delinquente. Ivan Dmitrich sussultava a ogni scampanellata e a ogni colpo bussato al portone. Soffriva quando incontrava dalla padrona di casa una persona nuova. imbattendosi in polizotti o gendarmi si metteva a sorridere e a fischiettare per sembrare indifferente. Non chiudeva ormai occhio tutte le notti ma russava forte e sospirava come addormentato perché la padrona avesse la sensazione che gli dormiva. Infatti se non dormiva voleva dire che lo tormentavano i rimorsi di coscienza, quale prova evidente. I fatti e la sana logica lo convincevano che tutte queste paura erano sciocchezze e psicopatie perché nell'arresto e nella prigione a guardare le cose con larghezza non c'è in sostanza nulla di terribile purché la coscienza sia tranquilla. Ma quanto più egli ragionava con intelligenza e con logica, tanto più forte e tormentosa diventava l'agitazione del suo spirito. Ciò faceva pensare a un eremita che voglia tagliarsi una piccola radura in una foresta vergine. Ma quanto più alacremente lavora di scure, tanto più folto e rigoglioso il bosco ricresce. Ivan Dmitrich, alla fin fine, vedendo che era inutile, aveva smesso di ragionare e si era abbandonato tutto alla disperazione e alla paura. Aveva cominciato ad isolarsi e a fuggire la gente. Il suo impiego, già prima gli ripugnava, gli divenne insopportabile. Temeva che in qualche modo lo compromettessero, che a sua insaputa gli ficcassero in tasca del denaro e poi lo accusassero di corruzione, oppure temeva di commettere gli stesso inavvertitamente, negli atti legali, un errore equivalente a una frode o di perdere denaro altrui. Lo strano è che mai, in altri tempi, il suo pensiero era stato così flessibile e così inventivo come ora, che ogni giorno escogitava a mille diversi pretesti per temere seriamente per la propria libertà e per il proprio onore. In compenso era diminuito in modo sensibile il suo interesse per il mondo esteriore, e in particolare per i libri, e la memoria aveva cominciato a tradirlo fortemente. In primavera, quando la neve si era sciolta, in un burrone presso il cimitero erano stati trovati due cadaveri semi putrefatti, di una vecchia e di un ragazzo, con tracce di morte violenta. In città non si era parlato che di questi cadaveri e degli ignoti assassini. Ivan Dmitrich, perché non pensassero che li aveva uccisi lui, andava per le strade sorridente e, incontrando dei conoscenti, impallidiva, arrossiva e cominciava ad affermare che non c'è delitto più infame dell'assassinio di persone deboli e indifese. Ma questa menzogna ben presto lo aveva stancato e, dopo qualche riflessione, aveva deciso che nella sua situazione meglio di tutto era nascondersi nella cantina della padrona di casa. In cantina era rimasto un giorno, poi una notte, un altro giorno, soffrendo molto per il freddo. Infine, atteso il crepuscolo, sarà introdotto di soppiatto come un ladro nella propria camera. Fino all'alba era rimasto in piedi, in mezzo alla camera, senza muoversi, in ascolto. Il mattino presto, prima dello spuntar del sole, erano venuti dalla padrona di casa dei fumisti. Ivan Dmitrich sapeva bene che erano venuti per spostare la stufa in cucina, ma la paura gli aveva suggerito che erano poliziotti travestiti da fumisti. Quattroquattro se n'era uscito dall'appartamento e, preso dal terrore, senza berretto né soprabito, si era messo a fuggire per la strada. I cani lo avevano inseguito abbaiando, un contadino gli aveva gridato dietro qualcosa, medie orecchie gli fischiava l'aria e a Ivan Dmitrich sembrava che tutta la violenza del mondo si fosse abbattuta sulla sua schiena e lo perseguitasse. Lo avevano fermato, lo avevano portato a casa e avevano mandato la padrona di casa a chiamare il medico. Il dottore, Adriai Efimic, del quale parleremo più innanzi, gli aveva prescritto delle compresse fredde sulla testa e delle gocce di lauro ceraso. Poi aveva scosso tristemente il capo e se n'era andato, dicendo alla padrona di casa che non sarebbe ritornato, perché non c'è ragione di impedire alla gente di impazzire. Poiché a casa Ivan Dmitrich non aveva di che vivere e di che curarsi, ben presto lo avevano mandato all'ospedale, dove lo avevano messo nella sala delle malattie venere. Egli non dormiva tutta la notte, faceva i capricci e disturbava gli ammalati e di lì a poco, per ordine di Andrei Efimic, era stato trasferito nella sala numero 6. Dopo un anno in città si erano già dimenticati di Ivan Dmitrich e i suoi libri, ammucchiati dalla padrona di casa e in una slitta sotto la tettoia, erano stati portati via dai monelli. Il vicino di sinistra di Ivan Dmitrich è, come ho già detto, l'ebreo moiseica. Il vicino di destra è un contadino tutto un pezzo di grasso, quasi sferico, dalla faccia ottusa e priva di ogni espressione. È un brutto inerte, vorace e sudicio, che già da un pezzo ha perduto la facoltà di pensare e di sentire. Emana da lui incessantemente un fetore acuto, soffocante. Nikita, che deve pulire dove gli sporca lo picchia terribilmente, con tutta la sua energia, senza risparmiare i pugni. E il terribile non è che lo battano. A questo ci si può abituare, ma che questo brutto inebetito non risponda ai colpi né con un suono né con un movimento né con un'espressione degli occhi, ma si dondoli soltanto leggermente come una pesante botte. Il quinto e ultimo inquilino della sala numero 6 è un borghese, un tempo già impiegato come ripartitore alla posta. Un biondo piccolo, sparuto, con un viso buono ma un po' scaltro. A giudicare dai suoi occhi calmi, intelligenti, che guardano sereni ed allegri, egli deve avere una grande opinione di sé e nascondere un segreto molto importante e piacevole. Tiene sotto il guanciale e sotto il materasso qualcosa che non mostra a nessuno, non per paura che gliela possano portare via o rubare, ma per ritrosia. A volte si avvicina alla finestra e voltata la schiena ai compagni, si attacca sul petto una cosa e la guarda a testa china. Se in questo momento ci si avvicina a lui, si confonde e si strappa qualche cosa dal petto. Ma non è difficile indovinare il suo segreto. Congratulatevi con me, dice egli spesso a Ivan Dimitric, sono stato insignito nell'ordine di San Stalislav, di seconda classe con la stella. La seconda classe con la stella si dà soltanto agli stranieri, ma per me, non so perché, hanno voluto fare un'eccezione. E sorride, stringendosi perplesso nelle spalle. Sì, lo confesso, non me l'aspettavo. Io in queste cose non ci capisco niente, dichiara Cupo Ivan Dimitric. Ma sapete che cosa otterrò presto o tardi? Continua l'ex ripartitore, strizzando furbescamente gli occhi. Otterrò senza fallo la stella polare, svedese. È un ordine che mette conto di darsi da fare per averlo. Croce bianca e nastro nero. È bellissimo. Probabilmente in nessun altro luogo la vita è così monotona come nel padiglione. La mattina i malati, ad eccezione del paralitico e del contadino grasso, si lavano nel vestibolo, in un bigoncio e si asciugano con le falde della veste da camera. Dopo bevano nelle ciotole di stagno il tè che Nikita porta loro dall'edificio principale. Mi aspetta una ciotola a ciascuno. A mezzogiorno mangiano la minestra di cavoli acidi e la zuppa di legumi. La sera la zuppa di legumi che è rimasta dal pranzo. Negli intervalli stanno coricati, dormono, guardano dalle finestre e camminano da un angolo all'altro. E così ogni giorno. Anche l'ex ripartitore parla sempre delle medesime decorazioni. Ospiti freschi se ne vedono raramente nella sala numero 6. Il dottore da lungo tempo non accoglie più nuovi pazzi e di gente che ami visitare i manicomi ce n'è poca a questo mondo. Una volta ogni due mesi viene nel padiglione Semen Lazaric, il barbiere. Di come egli tosi i pazzi e come Nikita lo aiuti e da quale costernazione siano presi i malati ad ogni apparizione del barbiere ubriaco e sorridente non parleremo neppure. Eccettuato il barbiere nessuno getta uno sguardo nel padiglione. I malati sono condannati a vedere ogni giorno soltanto Nikita. Del resto non è molto che per l'ospedale è corsa una voce abbastanza strana. Si è sparsa cioè la voce che il dottore ha cominciato a frequentare la sala numero 6. Strana voce. Il dottore Andrei Efimic Rajin è un uomo eccezionale nel suo genere. Dicono che nella sua prima giovinezza fosse molto pio e si preparasse alla carriera ecclesiastica e che terminati nel 1863 i corsi del ginnasio si proponesse di entrare all'accademia ecclesiastica. Ma che suo padre, dottore in medicina e chirurgia, si fosse fatto beffe di lui velenosamente dichiarandogli in modo categorico che non lo avrebbe considerato più suo figlio se si fosse fatto prete. Sino a che punto ciò fosse vero non so, ma lo stesso Andrei Efimic più di una volta confessò che non aveva sentito mai vocazione per la medicina e in generale per le scienze speciali. Comunque fosse, finiti i corsi della facoltà di medicina, egli non si fece prete. Devozione non ne manifestava e ad un uomo di chiesa, al principio della sua carriera di medico, assomigliava tanto poco quanto ora. Il suo aspetto esteriore è duro, rozzo, contadinesco. Con la sua faccia, la sua barba, i capelli lisci, la complessione robusta e goffa, fa pensare a un ost di strada maestra, mangione intemperante e duro. Il suo viso severo è solcato di vene azzurre, gli occhi sono piccoli e il naso rosso. All'alta statura e alle larghe spalle, egli unisce mani e piedi enormi, un pugno e li ammazza, almeno così sembra. Ma il suo modo di fare è calmo e la sua andatura circospetta, furtiva. Incontrando qualcuno in uno stretto corridoio, è sempre il primo a fermarsi per lasciare il passo e con una voce non di basso, come ci si aspetterebbe, ma sottile e delicata di tenore. Dice, scusate. Ha sul collo un piccolo gonfiore che gli impedisce di portare i colletti duri inamidati e perciò porta sempre delle camicie flosce di tela o di indiana. In generale non veste come un dottore. Va in giro col medesimo vestito per dieci anni e il nuovo, che di solito egli compra nella bottega di un ebreo, sembra addosso a lui non meno usato e sguelcito del vecchio. Sempre con la stessa redingot riceve i malati, pranza e va a far visita. E ciò non per avarizia, bensì per assoluta noncuranza del proprio aspetto esteriore. Quando Andriai Efimic era arrivato in città per occupare il suo posto, l'istituto di carità si trovava in una situazione terribile. Nelle sale, nei corridoi e nel cortile dell'ospedale era difficile respirare per il fetore. Inservienti, la infermiera e i loro bambini dormivano nelle sale insieme coi malati. Si lamentavano che la vita era impossibile a causa degli scarafaggi, delle cimici e dei topi. Nel reparto chirurgico non si riusciva a debellare la lisipola. Per tutto l'ospedale c'erano soltanto due bisturi e nemmeno un termometro. Nelle vasche da bagno si tenevano le patate. Il custode, la guardarobiera e l'aiuto chirurgo saccheggiavano i malati e del vecchio dottore, il predecessore di Andriai Efimic, si raccontava che vendesse di nascosto l'alcol dell'ospedale e che con le infermiere e le malate si fosse creato un harem. In città si conoscevano benissimo questi disordini e perfino si esageravano, ma li si considerava con indifferenza. Alcuni li giustificavano col fatto che all'ospedale ci venivano soltanto i piccoli borghesi e i contadini, i quali non possono essere scontenti, dato che a casa vivono molto peggio che all'ospedale, non si possono certo trattare a fagiani. Altri poi, come giustificazione, dicevano che una città senza l'aiuto del consiglio provinciale non era in grado di mantenere un buon ospedale. Grazie a Dio, uno c'era, sia pur cattivo, e il consiglio provinciale di recente fondazione non apriva una casa di cura né in città né fuori perché la città aveva già il suo ospedale. Esaminato l'ospedale, Andriai Efimic era arrivato alla conclusione che si trattava di una istituzione immorale e al massimo grado nociva alla salute degli abitanti. Secondo la sua opinione, la cosa più saggia sarebbe stato di mettere in libertà i malati e chiudere l'ospedale, ma riflette che per questo non bastava la volontà di uno solo e che sarebbe stato inutile. La sporcizia fisica e morale, cacciata da un posto, passa in un altro. Bisogna attendere che se ne vada da sé. Inoltre, se degli uomini avevano aperto un ospedale e lo tolleravano, vuol dire che era loro necessario. I pregiudizi e tutte le brutture e turpitudini della vita sono utili perché col tempo si trasformano in qualche cosa di utile, come il letame enumus. Sulla terra non vi è nulla di tanto buono che non abbia avuta la sua prima origine da qualche porcheria. Assunta la carica, Andriai Efimic si era comportato con evidente indifferenza per quanto riguardava gli abusi. Aveva chiesto soltanto agli inservienti e alle infermiere di non dormire nelle sale dei malati e aveva fatto fare due armadi per gli strumenti. Il custode, la guardarobiera, l'aiuto chirurgo e la risipola erano rimasti ai loro posti. Andriai Efimic ama straordinariamente l'intelligenza e l'onestà, ma non ha abbastanza carattere e fede nel suo diritto per instaurare attorno a sé una vita intelligente e onesta. Comandare, proibire, insistere, positivamente non sono per lui, come se abbia fatto voto di non alzar mai la voce e di non far uso del modo imperativo. Dire da o porta gli è difficile. Quando vuol mangiare tossicchia indeciso e dice alla cuoca se mi si desse del tè oppure se potessi pranzare. Dire poi al custode che smette a dirubare o scacciarlo o sopprimere del tutto questa funzione inutile e parassitaria è assolutamente al di sopra delle sue forze. Quando ingannano Andriai Efimic o lo adulano, oppure gli presentano per la firma un conto che sanno falso, egli diventa rosso come un gambero e si sente colpevole. Ma il conto lo firma. Quando i malati si lamentano con lui per la fame o contro le infermiere grussolane, si confonde. È come un colpevole borbotta. Bene, bene, vedrò poi. Probabilmente qui c'è un malinteso. Nei primi tempi Andriai Efimic lavorava con molto zelo. Riceveva ogni giorno, dal mattino fino all'ora di pranzo, faceva operazioni e si occupava perfino di ostetricia. Le signore dicevano di lui che era pieno di attenzioni e che diagnosticava a meraviglia le malattie, specialmente quelle dei bambini e delle donne. Ma con l'andar del tempo, la professione gli era venuta manifestamente annoia per la sua monotonia e la sua evidente inutilità. Oggi visita 30 malati e l'indomani sono diventati 35, postomani 40. E così di giorno in giorno, di anno in anno, e la mortalità in città non diminuisce e i malati non cessano di venire. Portare un serio aiuto a 40 malati che vengono a farsi visitare dalla mattina fino all'ora di pranzo è fisicamente impossibile. Quindi, senza volerlo, si inganna il prossimo. Se nel corso dell'anno si sono ricevuti 12.000 malati, vuol dire, ragionando alla buona, avere ingannato 12.000 persone. Quanto a mettere i malati gravi nelle sale e occuparsi di loro secondo le regole della scienza, è pure impossibile, perché le regole ci sono, ma la scienza no. E se si lascia la filosofia e si seguono pedantescamente le regole, come gli altri medici, prima di tutto occorrono pulizia e valutazione e non sporcizia, un cibo sano e non una minestra di cavoli acidi puzzolenti, buoni collaboratori e non dei ladri. E perché impedire agli uomini di morire se la morte è la fine normale e legittima di ognuno? Che si guadagna se un mercante un funzionario vive 5 o 10 anni di più? E se si vede lo scopo della medicina nell'alleviare le sofferenze coi farmaci? Involontariamente si insinua la domanda, perché alleviarle? In primo luogo, a quanto si dice, le sofferenze portano l'uomo alla perfezione. E in secondo luogo, se l'umanità impara realmente ad alleviare le proprie sofferenze con pillole e gocce, essa rigetta in pieno la religione e filosofia, nelle quali finora ha trovato non soltanto una difesa contro tutti i mali, ma persino la felicità. Pushkin, prima di morire, provò dei tormenti orribili. Il povero Heine rimase paralizzato per alcuni anni, perché dunque non dovrebbero soffrire un qualsiasi Andrea Yefimich o una matrena Savizna, la cui vita è priva di contenuto e sarebbe del tutto vuota e simile a quella delle amebe, se non ci fosse la sofferenza. Oppresso da tali ragionamenti, Andrea Yefimich aveva lasciato cadere le braccia e aveva smesso di andare all'ospedale tutti i giorni. La sua vita scorre così, di solito si alza la mattina verso le otto, si veste e prende il tè, poi si siede nel suo studio a leggere o va all'ospedale. Lì all'ospedale, in uno stretto e buio corridoio, stanno i malati dell'ambulatorio in attesa della visita. Davanti a loro, picchiando gli stivali sul pavimento di mattoni, passano correndo gli inservienti e le infermiere. Passano gli sparuti malati in veste da camera. Si portano via i morti e i vasi sporchi. Dei bambini piangono. Soffia una corrente d'aria. Andrea Yefimich sa che per i febbricitanti, i tubercolotici e in generale per i malati impressionabili. Un simile ambiente è un tormento. Ma che farci? Nella sala delle visite gli viene incontro il suo aiutante, Sergei Sergeitsch, un uomo piccolo, grasso, dal viso gonfio, raso e ben lavato, dai modi morbidi e affabili, e nel suo nuovo e ampio costume più simile a un senatore che è un aiuto chirurgo. In città egli ha un'immensa clientela, porta la cravatta bianca e si ritiene molto più competente del dottore, che non ha affatto clientela. In un angolo dell'ambulatorio e in un'edicola è una grande immagine sacra con una pesante lampada e lì accanto un grosso cero coperto di un velo bianco. Alle pareti sono appesi i ritratti dei vescovi, la veduta del monastero di Sviato Gorsk e delle corone di fiordalisi secchi. Sergei Sergeitsch è religioso e ama le cose sacre. L'immagine sacra è stata posta per sua iniziativa. Alla domenica nell'ambulatorio uno dei malati, per ordine suo, legge ad alta voce un canto sacro e dopo la lettura Sergei Sergeitsch fa il giro di tutte le sale con un piccolo turibolo e le incensa. I malati sono molti, ma il tempo è poco e perciò tutto si limita ad un breve interrogatorio e alla distribuzione di qualche medicina, come un unguento o l'olio di ricino. Andrei Efimic sta seduto con la guancia appoggiata al pugno e meditabondo pone le domande macchinalmente. Sergei Sergeitsch sta anche lui seduto, si frega le mani e di tanto in tanto interloquisce. Ci ammaliamo e ci troviamo alle prese col bisogno, dice, perché preghiamo male Dio misericordioso, si. Durante l'ambulatorio Andrei Efimic non fa alcuna operazione. Da tempo ne ha perduto l'abitudine e la vista del sangue gli procura un'emozione spiacevole. Quando deve aprire la bocca a un bambino per guardargli in gola e il bambino grida e si difende con le manine, a causa del rumore agli orecchi, gli gira la testa e gli spuntano le lacrime agli occhi. Egli si affretta a prescrivere una medicina e fa un gesto perché la donna porti via il bimbo al più presto. La timidezza dei malati e la loro stupidità, la presenza del Pio Sergei Sergeitsch, i ritratti alle pareti e le sue stesse domande che ripete immutabilmente da più di vent'anni, ben presto lo annoiano. Ed egli se ne va dopo aver visitato cinque o sei malati. I rimanenti li visita senza di lui il suo assistente. Col gradito pensiero che grazie a Dio da tempo non ha alcuna clientela privata e che nessuno verrà a disturbarlo, Andrei Efimic è arrivato a casa, si siede immediatamente al tavolino nel suo studio e si mette a leggere. Legge moltissimo e sempre con gran piacere. Metà del suo stipendio se ne va in libri e di sei stanze del suo alloggio tre sono ingombre di libri e di vecchie riviste. Più di tutto egli ama le opere di storia e di filosofia. Quanto poi alla medicina è abbonato soltanto a Il Medico che comincia sempre a leggere dalla fine. La lettura si prolunga ogni volta parecchie ore senza interruzione e non lo affatica. Non legge con quella fretta e con quella foga con cui leggeva un tempo Ivan Dmitrich, ma lentamente con penetrazione, fermandosi spesso nei punti che gli piacciono o che non capisce. Accanto al libro c'è sempre una piccola caraffa di vodka e un cetriolo salato o una mela in conserva messa direttamente sul panno senza piattino. O in mezz'ora, senza levare gli occhi dal libro, egli si versa un bicchierino di vodka e lo beve, poi senza guardare cerca a tastoni il cetriolo e ne mordicchia un pezzetto. Alle tre si avvicina con circospezione alla porta della cucina e tossendo dice Dariushka, se potessi pranzare. Dopo il pranzo abbastanza cattivo e grossolano, Andrea Yefimic cammina per le sue stanze, con le braccia incrociate sul petto e pensa. Suonano le quattro, poi le cinque, ed egli continua a camminare e a pensare. Di tanto in tanto stride la porta della cucina e ne spunta il viso rosso, assonnato di Dariushka. Andrea Yefimic, non è tempo di bere la birra? Domanda con aria preoccupata. No, non è ancora tempo, risponde. Aspetterò, aspetterò. Verso sera arriva abitualmente il direttore della posta, Mikhail Averjanic, l'unica persona in città la cui compagnia non pesi ad Andrea Yefimic. Mikhail Averjanic era a un tempo un ricchissimo proprietario e serviva nella cavalleria, ma si era rovinato e per bisogno, già sotto la vecchiaia, era dovuto entrare nell'amministrazione delle poste. Ha un'aria arzilla e sana, delle magnifiche fedine grigie, delle maniere educate e una voce forte e piacevole. È buono e sensibile, ma irrascibile. Quando alla posta qualcuno reclama, non si dichiara mai d'accordo o semplicemente comincia a discutere, ma diventa scarlato, trema in tutto il corpo e grida con voce tonante «Taccete!» e così l'ufficio delle poste si è da un pezzo acquistata la fama di un ufficio in cui è terribile capitare. Mikhail Averjanic stima e ama Andrea Yefimic per la sua cultura e per la sua nobiltà d'animo. Gli altri abitanti invece li tratta dall'alto in basso come subordinati. «Eccomi!» grida entrando Andrea Yefimic. «Salve mio caro! Forse vi sono già venuto a noia, eh?» «Al contrario, sono felicissimo!» gli risponde il dottore. «Sono sempre felice di vedervi!» I due amici si siedono sul divano, nello studio, e per qualche tempo fumano in silenzio. «Dariuska, se ci portasse della birra!» dice Andrea Yefimic. La prima bottiglia la vuotano pure in silenzio. Il dottore è sovra pensiero. Mikhail Averjanic è con l'aria allegra e vivace di un uomo che ha da raccontare qualcosa di molto interessante. La conversazione la comincia sempre il dottore. «Che peccato!» egli dice con voce lenta e piana, scuotendo la testa e senza guardare negli occhi il suo interlocutore. Egli non guarda mai negli occhi. «Che gran peccato, stimatissimo Mikhail Averjanic, che nella nostra città non ci sia proprio nessuno che sappia e ami tenere una conversazione intelligente e interessante. È per noi un'immensa privazione. Neppure l'intelligenza si solleva al di sopra della banalità. Il livello del suo sviluppo, ve l'assicuro, non è per nulla superiore a quello delle classi basse. Perfettamente vero, d'accordo. Voi stesso vi degnate di riconoscere, continua piano il dottore dopo una pausa, che a questo mondo tutto è insignificante e senza interesse, fuorché le supreme manifestazioni astratte dello spirito umano. Lo spirito traccia un limite netto fra l'animale e l'uomo, fa pensare alla divinità di quest'ultimo e in certo grado supplisce anche all'immortalità che gli manca. Partendo da ciò, lo spirito è l'unica sorgente possibile di godimento. Noi invece non vediamo, né sentiamo intorno a noi l'intelligenza. Vuol dire che siamo privati dal godimento. A dire il vero, abbiamo dei libri, ma questo è tutt'altra cosa che la conversazione viva e le relazioni con gli uomini. Se mi permettete un paragone non del tutto felice. I libri sono le note musicali e la conversazione è il canto. Perfettamente vero. Subentra il silenzio. Dalla cucina esce Dariuska e con una impressione di ottusa afflizione, appoggiando il viso sul pugno, si ferma sulla porta ad ascoltare. Eh, sospira Mikhail Averjanich, vorreste dell'intelligenza dalla gente d'oggi. Ed egli racconta come un tempo si vivesse in modo sano, allegro e interessante. Quale saggia intelligenza ci fosse in Russia e come avesse posto in alto le idee di onore ed amicizia. Si dava al denario a prestito senza ricevuta e si chiamava un'infamia il non tendere una mano soccorrevole al compagno bisognoso. E che imprese, che avventure, che battaglie c'erano? Quali compagni e quali donne? Il Caucaso. Che meravigliosa regione. La moglie di un comandante di battaglione, donna strana, si vestiva da ufficiale e andava di notte sulle montagne, sola, senza guida. Dicono che in un'aul avesse un romanzo con un certo principotto. Regina del cielo, sospira Dariushka. E come si beveva? Come si mangiava? E che liberali temerari c'erano allora? Andrea Yefimic ascolta e non sente. Egli pensa a qualche cosa e centellina la birra. Io sogno spesso delle persone intelligenti e le conversazioni che ho con loro, dice egli ad un interrompendo Michael Averianic. Mio padre mi diede un'istruzione eccellente, ma sotto l'influenza dell'idea del sessanta mi costrinse a farmi medico. Mi pare che se allora non avessi ascoltato, mi troverai ora proprio al centro del movimento intellettuale. Probabilmente sarei membro di qualche facoltà. Certo, nemmeno l'ingegno è eterno e passa, ma voi sapete già perché io abbia un debole per esso. La vita è una spiacevole trappola. Quando un uomo che pensa arriva all'età virile e raggiunge la maturità della coscienza, involontariamente, si sente come in una trappola, senza uscita. Infatti, egli è chiamato contro la sua volontà, per certe circostanze furtuite, dal nulla alla vita. Perché? Egli vorrebbe conoscere il senso e lo scopo dell'esistenza, ma non glielo dicono, oppure gli dicono delle assurdità. Egli picchia, ma non gli si apre. E sovviene la morte, anch'essa contro la sua volontà. Ed ecco che, come in una prigione, gli uomini, legati da una comune sventura, si sentono più sollevati quando si riuniscono. Così, anche nella vita, non ci si accorge della trappola quando degli uomini portati all'analisi e alle generalizzazioni si riuniscono e passano il tempo a scambiarsi delle idee libere e ardite. In questo senso, l'intelligenza è un godimento incomparabile. Perfettamente vero. Senza guardare negli occhi il suo interlocutore, con voce piana e con pause, Andrei Efimic continua a parlare delle persone intelligenti e delle conversazioni con esse. E Mikhail Averjanic lo ascolta e annuisce. Perfettamente vero. Ma voi non credete all'immortalità dell'anima? Domanda a un tratto il direttore della posta. No, stimatissimo Mikhail Averjanic, non ci credo, né ho fondamento per crederci. Devo confessare che anch'io ne dubito, ma tuttavia c'è in me come un sentimento che io non morro mai. Penso fra me, vecchio barbogio, a tempo di morire, ma sento nell'anima non so che bucina. Non crederci, non morrai. Poco dopo le dieci Mikhail Averjanic se ne va, indossando in anticamera la pelliccia e gli dice con un sospiro. Però in che buco sperduto ci ha cacciati il destino? Il più seccante è che qui ci toccherà anche morire, eh? Accompagnato l'amico, Andrei Efimic si siede al tavolino e si rimette a leggere. Non un suono rompe il silenzio della sera e poi della notte. E il tempo pare si arresti e si irrigidisca insieme col dottore sul libro. E pare che nulla esista oltre questo libro e alla lampada quel paralume verde. Il viso rozzo, da contadino, del dottore si rischiara poco a poco in un sorriso di commozione e di entusiasmo di fronte ai progressi dell'ingegno umano. Oh, perché l'uomo non è immortale? Pensa egli. A che scopo i centri e le circonvoluzioni cerebrali? A che scopo la vista, la parola, la coscienza? Se tutto questo è destinato a tornare alla terra e alla fin fine a raffreddarsi insieme con la crosta terrestre e poi per milioni di anni turbinare senza riposo e senza scopo con la terra attorno al sole. Perché dovesse raffreddarsi e poi turbinare? Non era affatto necessario trarre l'uomo dal nulla con la sua elevata quasi divina intelligenza e poi come per irrisione trasformarlo in argilla. La trasformazione della materia. Quale bassezza consolarsi con questo surrogato dell'immortalità? I processi incoscienti che si svolgono nella natura sono inferiori perfino alla stupidità umana, poiché nella stupidità c'è tuttavia coscienza e libertà. Ma in quei processi non c'è proprio nulla. Solo un vile che ha di fronte alla morte più paura che dignità può consolarsi col fatto che il suo corpo col tempo vivrà nell'erba, in una pietra, in un rospo. Vedere la propria immortalità nella trasformazione della materia è così strano come predire un brillante avvenire a un astuccio di violino quando il prezioso strumento si è spezzato ed è diventato inservibile. Quando battono le ore Andrei Efimic si rovescia sulla spalliera della poltrona e chiude gli occhi per riflettere un poco e all'improvviso sotto l'influenza dei buoni pensieri che ha letto nel libro getta uno sguardo sul suo passato e sul presente. Il passato è odioso ed è meglio non ricordarsene, ma nel presente c'è lo stesso che nel passato. Egli sa che nel momento stesso in cui i suoi pensieri turbinano con la terra raffreddata attorno al sole, accanto al suo appartamento, nel corpo principale dell'ospedale, degli uomini languiscono nelle malattie e nella sporcizia fisica. Forse qualcuno non dorme, ha le prese con gli insetti, qualcuno ha infetto di risipola e geme per la fasciatura troppo stretta. Forse i malati giocano a carte con le infermiere e bevono vodka. Nel corso dell'anno sono state ingannate 12.000 persone. Tutta l'opera ospedaliera, come 20 anni fa, è fondata sul ladrocinio, sui litigi, sui pettegolezzi, sul favoritismo, su una grossolana ciarlataneria e l'ospedale continua ad essere un'istituzione immorale e al più alto grado dannosa per la salute degli abitanti. Egli sa che dietro le grate della sala numero 6 Nikita batte i malati e che Moiseica va ogni giorno per la città a chiedere l'elemosina. M'altra parte gli sa benissimo che negli ultimi 25 anni nella medicina si è prodotta una trasformazione favolosa. Quando egli studiava all'università gli pareva che alla medicina sarebbe ben presto toccata la sorte dell'alchimia e della metafisica. Ora invece, quando legge la notte, la medicina lo commuove e suscita in lui stupore e perfino entusiasmo. In realtà, quale inatteso splendore, quale rivoluzione! Grazie all'antisepsi si fanno delle operazioni che il grande Pirogov considerava impossibili perfino in Spe. Dei comuni medici provinciali si arricchiscono a praticare la resezione dell'articolazione del ginocchio. Succento alla parotomie, un solo caso è mortale e la calcolosi è ritenuta tale sciocchezza che nemmeno se ne scrive. La sifilida si cura radicalmente. Ma la teoria dell'ereditarietà, dell'iplotismo, le scoperte di Pasteur e di Koch, l'igiene fondata sulla statistica, ma la nostra medicina russa provinciale, la psichiatria con la sua odierna classificazione delle malattie, con i suoi metodi di diagnosi e di cura, tutto questo in confronto con quello che fu. È un vero e proprio Elbrus. Adesso ai pazzi non si versa più acqua fredda sul capo, ne si fa loro indossare la camicia di forza. Si trattano umanamente e perfino, come scrivono sui giornali, si organizzano per loro spettacoli e balli. Andrea Efimic sa che con le idee e i gusti di oggi, un'infamia come quella della sala numero 6, è possibile forse soltanto a 200 versi dalla ferrovia, in una cittadina dove il sindaco e tutti i consiglieri sono dei piccoli borghesi semianalfabeti, i quali vedono nel medico un mago, in cui bisogna credere senza alcuna critica, anche se ti versa in bocca del piombo fuso. In un altro luogo il pubblico e i giornali già da un pezzo avrebbero fatto a pezzi questa piccola bastiglia. E che dunque, si domanda Andrea Efimic, aprendo gli occhi, che ne vien fuori? Antisepsi, Ekoch e Pasteur, ma la sostanza delle cose non è cambiata. Le cause dei morbi e la mortalità sono sempre le stesse. Si organizzano dei balli e degli spettacoli per i pazzi, ma tuttavia non si mettono in libertà. Vuol dire che tutto è un'assurdità e vanità e in sostanza non c'è alcuna differenza fra la miglior clinica di Vienna e il mio ospedale. Ma l'afflizione e un sentimento simile all'invidia gli impediscono di essere indifferente. Forse deriva dalla stanchezza. La testa appesantita si china sul libro e gli pone sotto il viso le mani per star più soffice e pensa. Io servo ad un'opera dannosa e ricevo uno stipendio dalla gente che inganno. Io non sono onesto. Per me stesso io sono un nulla. Solo una particella dell'inevitabile male sociale. Tutti gli impiegati del distretto sono dannosi e pigliano lo stipendio a sbafo. Della mia disonestà non sono quindi colpevole io ma il tempo. Se fossi nato duecento anni più tardi sarei stato un altro. Quando battono le tre egli spegne la lampada e se ne va nella camera da letto. Di dormire non ne ha voglia. Due anni or sono il consiglio provinciale largheggiò nelle spese e stanziò trecento rubli all'anno a titolo di sovvenzione per aumentare il personale medico dell'ospedale cittadino fino all'apertura dell'ospedale provinciale. E come aiuto di Andrei Efimic fu chiamato in città un medico del distretto Eugenie Piedorovic Chobotov. E questi un uomo ancora giovanissimo non ha neppure trent'anni è Bruno Alto. Ha gli zigomi larghi e gli occhietti piccoli. Probabilmente i suoi antenati erano allogeni. È arrivato in città senza un centesimo con una piccola valigetta e una giovane e brutta donna che gli chiama la sua cuoca. Questa donna ha un bambino lattante. Eugenie Piedorovic porta il berretto a visiera e degli stivali alti ed inverno una pelliccia corta. Si è stretto in intimità con Sergei Sergei e con l'economo ma gli altri impiegati li chiama chissà perché aristocratici e si tiene lontano da loro. In tutto il suo appartamento non c'è che un libro. Le nuovissime ricette della clinica di Vienna per l'anno 1881. Andando da un malato egli prende sempre con sé questo libricino. La sera al circolo gioca al biliardo. Non ama invece giocare a carte. Gli piace molto ad operare nella conversazione certe frasi come lungaggine, menti foglia con aceto, smettetera di far venire malinconia, eccetera. All'ospedale si trova due volte alla settimana, fa il giro delle sale e visita i malati. La completa assenza di antisettici e la sanguisuga lo rivoltano ma non introduce nuovi sistemi per paura di offendere Andriai Efimic. Il suo collega Andriai Efimic, egli lo stima a un vecchio furfante, sospetta che possegga grandi ricchezze e in segreto lo invidia. Volentieri ne occuperebbe il posto. Una sera di primavera, alla fine di marzo, quando già sulla terra non c'era più neve e gli stornelli cantavano nel giardino dell'ospedale, il dottore uscì per accompagnare fino al portone il suo amico direttore delle poste. Proprio in quel momento entrava nel cortile il giudeo Moiseica di ritorno dalla questua. Egli era senza berretto, portava delle basse sovrascarpe sui piedi nudi e teneva nelle mani un piccolo sacchetto con l'elemosina. «Dammi una copeca», si rivolse egli al dottore, tremando dal freddo e sorridendo. Andriai Efimic non sapeva mai rifiutare. Gli diede una moneta da dieci copeche. Che cosa triste pensò guardando i piedi nudi dalle caviglie magre e rosse del pazzo. E c'è tanta umidità. E spinto da un sentimento simile alla pietà e al disgusto, seguì l'ebreo nel padiglione, guardando ora la sua calvizia e ora le sue caviglie. Nel vedere entrare il dottore, Nikita balzò dal mucchio di cenzi e si mise sull'attenti. «Salute Nikita», disse dolcemente Andrea Efimic. «Non si potrebbe dare un paio di scarpe a questo ebreo? Prenderà un raffreddore. Sta bene, vostra nobiltà, ne riferirò all'economo. Ti prego, domandeglielo a nome mio, digli che l'ho domandato io». La porta che dal vestibolo metteva nella camera era aperta. Ivan Dimitric, steso sul letto e appoggiato al gomito, tendeva l'orecchio con inquietudine a quella voce estranea e a un tratto riconobbe il dottore. Tutto tremante di collera balzò dal letto e col viso rosso e cattivo, con gli occhi fuori dalle orbite, si precipitò nel mezzo della camera. «È venuto il dottore!» gridò e si mise a sghignazzare. «Finalmente, signori, mi congratulo, il dottore ci onora di una visita!» «Maledetto serpente!» strillò e in uno stato di esaltazione quale non si era ancora mai veduto nella sala, batte il piede in terra. «Bisogna ucciderlo, questo serpente!» «No, ucciderlo è poco! Bisogna affogarlo nella latrina!» Andrei Efimic, udendo ciò, gettò dall'entrata uno sguardo nella camera e domandò dolcemente «Perché?» «Perché?» gridò Ivan Dimitric, accigliandosi con aria minacciosa e avvolgendosi convulsamente nella veste da camera. «Perché? Ladro!» proferì con disgusto, atteggiando le labbra come se volesse sputare. «Ciarlatano! Carnefice!» «Calmatevi!» disse Andrei Efimic, sorridendo con aria colpevole. «Vi assicuro che non ho mai rubato niente, quanto al resto probabilmente esagerate. Vedo che siete adirato con me. Calmatevi, ve ne prego, se potete, e ditemi con calma perché siete adirato. E perché mi tenete qui? Perché siete malato. Sì, malato! Però decine, centinaia di pazzi passeggiano in libertà perché la vostra ignoranza è incapace di distinguerli dai sani. E perché invece io e questi disgraziati dobbiamo stare qui, per tutti, come capri espiatori. Voi, aiutochirurgo, l'economo e tutto il canagliume dell'ospedale, dal punto di vista morale siete infinitamente più bassi di ognuno di noi. Perché dunque noi stiamo qua e voi no? Dov'è la logica? I rapporti morali e la logica qui non c'entrano. Tutto dipende dal caso. Quelli che hanno messo dentro vi stanno. Quelli che non hanno messo dentro passeggiano. Ecco tutto. Nel fatto che io sia dottore e voi malato di mente non c'entra né la moralità né la logica, ma soltanto il puro caso. «Queste frottole io non le capisco», proferì sordamente Ivan Dmitrich e si sedette sul letto. Mosaica, che Nikita aveva avuto soggezione di frugare alla presenza del dottore, distribuì sul letto dei pezzettini di pane, di carta e degli ossicini e ancora tremando dal freddo, prese a dire in fretta e con cantilena qualcosa in ebraico. Probabilmente si immaginava di aver aperto una botteguccia. «Lasciatemi andare», disse Ivan Dmitrich e la voce gli tremò. «Non posso». «Ma perché? Perché? Perché non è il mio potere? Giudicate voi stesso. Quale vantaggio ne avreste se io vi lasciassi andare? Ve ne andate. I cittadini o la polizia vi fermano e vi riportano dentro». «Sì, sì, è vero», proferì Ivan Dmitrich e si asciugò la fronte. «È spaventoso. Ma cosa devo fare dunque? Che cosa?» La voce di Ivan Dmitrich e il suo giovane viso intelligente piacquero ad Andrei Efimic. Gli venne voglia di accarezzare quel giovane e di calmarlo. Si siedette accanto a lui sul letto, riflette e disse «Voi domandate che cosa fare. La miglior cosa nella vostra situazione sarebbe fuggire di qui, ma purtroppo è inutile. Vi arresterebbero. Quando la società elimina da sé i delinquenti, i malati di mente e in generale gli individui che le riescono incomodi, è inesorabile. Non vi resta che una cosa. Tranquillizzarvi al pensiero che la vostra permanenza qui è necessaria. E se non serve a nessuno? Nel momento che esistono le prigioni e i manicomi bisogna pure che qualcuno ci stia dentro. Se non siete voi, sono io. Se non sono io, è un terzo qualsiasi. Aspettate. Quando in un lontano futuro cesseranno di esistere le prigioni e i manicomi, non vi saranno più grate alle finestre, ne vesti da camere per pazzi. Senza dubbio un'epoca simile verrà, presto o tardi». Ivan Dmitrich sorrise beffardamente. «Voi scherzate», disse, strizzando gli occhi. «A individui come voi e come il vostro aiutante Nikita non importa granché dell'avvenire, ma potete essere sicuro e greggio, signore, che verranno tempi migliori. Io mi esprimo forse volgarmente. Ridete pure, ma splenderà l'alba di una nuova vita. La giustizia trionferà e nella nostra strada ci sarà festa. Io non lo vedrò, creperò prima, ma i pronipoti di qualcuno lo vedranno. Io li saluto con tutta l'anima e gioisco, gioisco per loro. Avanti, che Dio vi aiuti, amici». Ivan Dmitrich con gli occhi scintillanti si alzò e tendendo le braccia alla finestra continuò con la voce commossa. «Di dietro a queste grate io vi benedico. Viva la giustizia, io ne gioisco». «Non trovo che sia il caso di gioire», disse Andrea Yefimic, cui la mossa di Ivan Dmitrich era parsa teatrale, ma nello stesso tempo era piaciuta assai. «Le prigioni e i manicomi cesseranno di esistere e la giustizia, come voi avete voluto esprimervi, trionferà. Ma la sostanza delle cose non muterà. Le leggi della natura rimarranno tali e quali. I uomini continueranno ad ammalarsi, a invecchiare e a morire proprio come adesso. Qualunque magnifica aurora non abbia illuminato la vostra vita, alla fin fine vi inchioderanno in una bara e getteranno in una fossa». «E l'immortalità? Lasciate stare. Voi non ci credete, ma io ci credo». Qualcuno, in Dostoevsky o in Voltaire, dice che se Dio non esistesse, gli uomini lo inventerebbero. E io credo fermamente che se non esistesse l'immortalità, presto o tardi la grande mente dell'uomo la inventerebbe. «Bendetto», proferì Andrei Efimic, sorridendo per il piacere. «È bene che voi crediate. Con una tale fede si può vivere cantando, anche murati dentro una parete. Voi avete avuto certo in qualche luogo una istruzione. Sì, ho frequentato l'università, ma non l'ho finita. Siete un uomo che pensa e medita. In qualunque ambiente potete trovare pace in voi stesso. Un pensiero libero e profondo, che tende alla comprensione della vita, il pieno disprezzo della stupida vanità del mondo. Ecco i due beni più alti che l'uomo abbia mai conosciuti. E voi li potete possedere anche l'inchiuso qui dentro le grate». Diogene viveva in una botte, però era più felice di tutti i re della terra. «Il vostro Diogene era un babbeo», proferì Cupo Ivan Dmitrich. «Che mi venite a parlare di Diogene o di non so quale comprensione?» Si irritò egli a un tratto balzando in piedi. «Io amo la vita, l'amo appassionatamente. Io soffro di mania di persecuzione, di una continua paura tormentosa. Ma ci sono dei momenti in cui mi afferra la sete di vivere e allora io temo di impazzire. Ho una terribile voglia di vivere, terribile!» Agitato, egli si mise a camminare per la sala e disse abbassando la voce. «Quando sogno mi fanno visita dei fantasmi, vengono da me certi uomini. Io sento le voci, la musica e mi sembra di passeggiare per i boschi lungo la riva del mare. E ho una voglia appassionata di vanità e di preoccupazione. Ditemi dunque, che c'è di nuovo là fuori? Che accade là?» «Desiderate sapere cosa c'è in città o così in generale?» «Ebbene, parlatemi prima della città e poi in generale. Ebbene, in città ci si annoia mortalmente. Non c'è nessuno ad ascoltare. Non ci sono nuovi arrivati. No, è arrivato tempo fa un giovane medico, Chobotov. È arrivato che già c'ero io. E che è? Un becero? Sì, è un uomo senza cultura. È una cosa strana, sapete? A giudicare dal complesso, nelle nostre due capitali non c'è stasi intellettuale. Anzi, c'è del movimento. Perciò dovrebbero esserci anche dei veri uomini. Ma chissà perché ogni volta ci mandano gente tale che non vorrei neppure vederla. È una disgraziata città, la nostra.» «Sì, una disgraziata città», sospirò Ivan Dmitrich e si mise a ridere. «E in generale, come va? Cosa si scrive nei giornali e nelle riviste?» Nella sala era già buio. Il dottore si alzò e stando in piedi cominciò a dire che cosa si scriveva all'estero e in Russia e qual era l'indirizzo che si notava nel pensiero contemporaneo. Ivan Dmitrich ascoltava con attenzione e faceva delle domande, ma ad un tratto, come se avesse ricordato qualcosa di spaventoso, si prese la testa fra le mani e si coricò sul letto, voltando la schiena al dottore. «Che avete?» domandò Andrea Yefimic. «Voi non sentirete più una parola da me», disse bruscamente Ivan Dmitrich. «Lasciatemi.» «Ma perché?» «Lasciatemi, vi dico. Che diavolo?» Andrea Yefimic si strinse nelle spalle, sospirò e uscì. Passando per il vestibolo disse «Bisognerebbe pulire qui, Nikita. C'è un puzzo terribile.» «Va bene, vostra nobiltà.» Che simpatico giovanotto, pensava Andrea Yefimic tornando al suo appartamento. Da quando sono qui è questo il primo, mi pare, con cui si possa discutere. Egli sa ragionare e si interessa appunto di quello di cui bisogna interessarsi. Leggendo e poi mettendosi a dormire, egli pensò sempre a Ivan Dmitrich e svegliatosi il mattino seguente si ricordò che il giorno innanzi aveva fatto la conoscenza di un uomo intelligente interessante e decise di tornare da lui alla prima occasione. Ivan Dmitrich era coricato nella stessa posa del giorno prima, col capo fra le mani e le gambe ripiegate. Il suo viso non si poteva vedere. «Bongiorno, amico mio», disse Andrea Yefimic. «Non dormite?» «In primo luogo io non vi sono amico», proferì Ivan Dmitrich col viso sul guanciale. «In secondo luogo, inutilmente vi arrabbiate. Voi non otterrete da me neppure una parola». «Strano», mormorò Andrea Yefimic, turbato. «Ieri conversavamo, così, tranquillamente, e ad un tratto, chissà perché, vi siete offeso e avete troncato. Probabilmente io mi sono espresso male o forse ho enunciato un pensiero non conforme alle vostre convinzioni». «Sì, vi credo proprio», disse Ivan Dmitrich sollevandosi e guardando il dottore ironicamente con l'ansietà. I suoi occhi erano rossi. «Potete andare a fare la spia e assaggiare il terreno in altro luogo. Qui non avete niente da fare. Fin da ieri ho capito perché siete venuto». «Strana fantasia», sorriso il dottore. «Allora voi ritenete che io sia una spia?» «Sì, lo credo. Spia o dottore? Al cui esame mi si è sottoposto è la stessa cosa». «In verità, scusatemi, che originale siete». Il dottore si sedette su uno sgabello accanto al letto e scosse la testa con aria di rimprovero. «Mettiamo pure che voi abbiate ragione», disse. «Mettiamo pure che io cerchi proditoriamente di cogliervi in fallo per consegnarvi alla polizia. Vi arresteranno e poi vi giudicheranno. Ma forse che in tribunale o in prigione starete peggio di qui? E se vi deportassero, se addirittura vi mandassero ai lavori forzati, sarebbe forse peggio che rimanere in questo padiglione? Io non lo credo. Di che temete dunque?» Evidentemente queste parole agirono su Ivan Dmitrich. Egli si sedette tranquillo. Erano quasi le cinque di sera, l'ora in cui di solito Andriai Efimice passeggiava per le stanze di casa sua e Dariusce gli domandava se non era l'ora di prendere la birra. Fuori il tempo era calmo, sereno. «Dopo pranzo sono uscito a passeggiare ed ecco che sono passato di qui, come vedete», disse il dottore. «È proprio primavera». «Che mese è ora? Marzo?» domandò Ivan Dmitrich. «Sì, siamo alla fine di marzo. C'è fango fuori? No, non molto. In giardino ci sono già i sentieri. Ora, sarebbe bello andare in calesse in qualche luogo fuori città, disse Ivan Dmitrich, fregandosi gli occhi arrossati, come se si risvegliasse. Poi tornare a casa in un tiepido e comodo studio e far sicurare il mal di testa da un dottore per bene. È già un pezzo che non vivo più da uomo. Qui è tutto così ripugnante e intollerabilmente ripugnante!» Dopo l'eccitazione del giorno avanti, egli era affaticato e fiacco e parlava malvolentieri. Le dita gli tremavano e dal suo viso si poteva vedere che gli doleva fortemente il capo. «Fra uno studio tiepido e comodo in questa sala non c'è nessuna differenza», disse Andrea Yefimovic. «La pace e la contentezza dell'uomo non sono fuori di lui, ma è lui stesso». Come sarebbe a dire? L'uomo comune attende il bene o il male dal di fuori, cioè dal calesse o dallo studio, ma il pensatore lo attende da se stesso. Andate a predicare questa filosofia in Grecia dove fa caldo e olezza l'arancio, ma qui non è il suo clima. Con chi dunque ho parlato di Diogene? Con voi, forse? Sì, con me, ieri. Diogene non aveva bisogno di uno studio o di una stanza riscaldata. Laggiù fa caldo lo stesso. Si si corica in una botte e si mangiano aranci e olive. Ma se avesse dovuto vivere in Russia, non dico nel mese di dicembre, ma nel mese di maggio, avrebbe insistito per avere una camera. Si sarebbe contorto per il freddo, ne sono certo. No. Il freddo, come in generale ogni dolore, si può non sentire. Marco Aurelio disse. Il dolore è una rappresentazione viva del male. Fa uno sforzo di volontà per modificare questa rappresentazione. Allontanala, cessa di lagnarti e il dolore sparirà. Questo è giusto. Il saggio, semplicemente, l'uomo che pensa e riflette, si distingue precisamente per il fatto che disprezza la sofferenza. Egli è sempre contento e non si meraviglia di nulla. Allora io sono un idiota, perché soffro, non sono contento e mi meraviglio della bassezza umana. Voi dite questo a torto. Se mediterete un po' più spesso, comprenderete quanto è insignificante tutto il mondo esteriore che ci turba. Bisogna attendere alla comprensione della vita. Solo in essa è il vero bene. Comprensione. Ivan Dimitri ci fece una smorfia di disgusto. Esteriore, interiore. Scusatemi, questo non lo capisco. Io so soltanto di segli alzandosi e guardando irritato il dottore. Io so che Dio mi ha creato di sangue caldo e di nervi proprio così. E il tessuto organico, se è vitale, deve reagire ad ogni eccitazione. E io reagisco. Al dolore rispondo con un grido, con le lacrime, a una bassezza con indignazione, a una turpitudine col disgusto. Secondo me è proprio questo che si chiama vita. Tanto più un organismo è in basso, tanto meno è sensibile e tanto più debolmente risponde agli stimoli. E quanto più è in alto, tanto più è impressionabile e più energicamente reagisce alla realtà. Come non saperlo? È dottore e non sa simili sciocchezze. Per disprezzare la sofferenza, essere sempre contenti e non meravigliarsi di nulla, bisogna ridursi, ecco, in quello stato. Ivan Dmitrich indicò il grosso contadino rigurgitante di grasso. Oppure temprarsi nelle sofferenze al punto di perdere ogni sensibilità, cioè in altre parole, cessar di vivere. Scusate, ma io non sono né un saggio né un filosofo, continuò Ivan Dmitrich con irritazione, e in tutto questo non ci capisco nulla. Non sono in grado di ragionare. Al contrario, voi ragionate magnificamente. Gli stoici, che voi parodiate, furono uomini notevoli, ma la loro dottrina si è arrestata duemila anni fa e non ha fatto un passo innanzi e non potrà farne, perché non è né pratica né vitale. essa ha avuto un successo soltanto presso una minoranza che passa la vita a studiare e a centellinare le varie dottrine, ma la maggioranza non la capisce. Una dottrina che predica l'indifferenza verso la ricchezza e le comodità della vita, il disprezzo delle sofferenze e della morte, è del tutto incomprensibile per l'enorme maggioranza, poiché questa maggioranza non ha mai conosciuto nella ricchezza e nella comodità della vita. E disprezzare le sofferenze significherebbe per essa disprezzare la vita stessa, poiché tutta l'esistenza dell'uomo consiste nella sensazione del freddo, della fame, degli oltraggi, delle deprivazioni e nella paura amletica della morte. In queste sensazioni è tutta la vita e se ne può sentire il peso, la si può odiare, ma non disprezzare. Sì, lo ripeto, la dottrina degli stoici non potrà mai avere un avvenire. Progrediscono invece, come voi vedete dal principio del secolo ad oggi, la lotta, la sensibilità al dolore, le capacità di reagire allo stimolo. Ivan Dimitrici a un tratto perdette il filo dei pensieri, si fermò e con dispetto si asciugò la fronte. Volevo dire qualche cosa di importante, ma mi sono confuso, disse. Di che parlavo? Sì, ecco, quel che volevo dire. Uno stoico vendette se stesso come schiavo per riscattare il suo prossimo. Ciò significa che anche uno stoico reagiva allo stimolo, perché per un atto così magnanimo come l'annientamento di sé in favore del prossimo è necessaria un'anima sdegnata e compassionevole. Ho dimenticato qui in prigione tutto ciò che ho studiato, se no mi ricorderai di qualche altra cosa ancora. E se prendessimo Cristo? Cristo reagiva alla realtà per il fatto che piangeva, sorrideva, si attristava, andava in collera e perfino provava angoscia. Egli non andò incontro alle sofferenze col sorriso, né disprezzò la morte, ma pregò nel giardino del Getsemani che fosse allontanato da lui il suo calice. Ivan Dimitric rise e si sedette. Ammettiamo che la tranquillità e la soddisfazione dell'uomo non siano fuori di lui, ma in lui stesso, disse. Ammettiamo che sia necessario disprezzare la sofferenza e non meravigliarsi di nulla. Ma voi con quale fondamento predicate queste cose? Siete voi un saggio, un filosofo? No, non sono un filosofo, ma predicarle deve ognuno perché sono cose ragionevoli. No, io voglio sapere perché vi stimate competente in fatto di comprensione e di disprezzo delle sofferenze, eccetera. Forse che avete sofferto qualche volta. Avete una nozione delle sofferenze? Scusate, vi hanno frustato nella vostra infanzia? No, i miei genitori nutrivano avversione per i castigli corporali. Mio padre invece mi frustava crudelmente. Mio padre era un duro funzionario che soffriva di amorroidi, dal muso lungo e dal collo giallo. Ma parliamo di voi. In tutta la vostra vita nessuno vi ha toccato con un dito, nessuno vi ha terrorizzato né picchiato. Voi siete sano come un bue, siete cresciuto sotto le ali del vostro padre e avete studiato a sue spese. Poi subito avete acciuffato una sinecura. Per più di vent'anni avete vissuto in un appartamento gratuito con riscaldamento, illuminazione e servitù, col diritto di lavorare come e quando vi piace e anche di non far nulla. Per natura siete un uomo pigro, fiacco e perciò avete cercato di sistemare la vostra vita in modo che nulla vi disturbi e vi faccia cambiare posto. Le vostre funzioni le avete passate all'aiuto chirurgo e a tutto l'altro canagliume e ve ne siete rimasto al caldo e nella quiete. Avete raggranellato del denaro, le giucchiato dei libri, vi siete dilettato con ragionamenti su varie elevate assurdità e... Ivan Dimitrice guardò il naso rosso del dottore, con bevute. In una parola non avete veduto la vita, non la conoscete per nulla e con la realtà non avete avuto che un contatto teorico. Disprezzate le sofferenze e non vi meravigliate di nulla per la semplicissima ragione che la vanità delle cose, il disprezzo interiore ed esteriore della vita, delle sofferenze e della morte, la comprensione, il vero bene, tutto questo è filosofia, è più adatta anzi per un dormiglione russo. Voi, vedete per esempio che un contadino batte la moglie? Perché intervenire? La batta pure, tanto tutti e due presto o tardi morranno. E colui che batte con le sue percosse non offende il battuto ma se stesso. Ubriacarsi è stupido, è indecente, ma se bevi morrai e se non bevi morrai. Viene una donna che ha male ai denti, ebbene, il dolore è una rappresentazione del dolore. Per di più senza malattie non si può vivere a questo mondo, e tutti dobbiamo morire, e perciò fattene via, oh donna, e non impedirmi di pensare o di bere la vodka. Un giovane vi chiede consiglio su cosa deve fare e come vivere. Prima di rispondere un altro rifletterebbe, ma voi avete già pronta la risposta? Sforzati di comprendere, oppure tendi al vero bene. Ma che cos'è questo fantastico vero bene? Non c'è risposta naturalmente. Quanto a noi, ci tengono qui dietro le grate, ci fanno marciare, ci torturano, ma tutto ciò è magnifico e ragionevole perché, fra questa sala e un tiepido studio accogliente, non c'è differenza. È una filosofia comoda, non c'è niente da fare. Si ha la coscienza pura e ci si sente saggi. No, signore, questa non è filosofia, non è pensiero, non è larghezza di vedute, ma pigrizia, facchirismo e torpore. Sì, Ivan Dimitric si addirò di nuovo. Voi disprezzate le sofferenze, ma io credo che, se vi schiacciaste un dito nella porta, strillereste a squarciagola. No, forse non strillerai, disse Andrea Yefimice sorridendo con mitezza. Vorrei vederlo, ecco. Se voi foste colpito da paralisi o un qualsiasi imbecille insolente, valendosi della sua posizione e del suo grado, vi insultasse in pubblico e voi sapeste che ciò passerà impunito, beh, capireste, ve lo assicuro. Che cosa è questo rimandare gli altri alla comprensione delle cose e al vero bene? Tutto ciò è originale, disse Andrea Yefimice, ridendo dal piacere e fregandosi le mani. Mi sorprende piacevolmente in voi la tendenza alle generalizzazioni, la caratteristica che vi siete degnato di tracciare di me poco fa è semplicemente brillante. Devo riconoscere che la conversazione con voi mi procura un enorme piacere. Ebbene, io vi ho ascoltato. Adesso abbiate la bontà di ascoltare me. Questa conversazione si prolungò ancora per circa un'ora ed evidentemente produsse in Andrea Yefimice una profonda impressione. Egli cominciò ad andare nel padiglione ogni giorno e andava la mattina dopo pranzo e spesso l'oscurità della sera lo sorprendeva in conversazione con Ivan Dimitric. Nei primi tempi Ivan Dimitric lo sfuggiva, lo sospettava di cattive intenzioni e apertamente esprimeva la sua ostilità. Poi si abituò a lui e mutò il suo contegno, brusco, in un contegno condiscendente e ironico. Ben presto nell'ospedale si sparse la voce che il dottore Andrea Yefimice si era messo a frequentare la sala numero 6. Nessuno, né l'aiuto chirurgo, né Nikita, né le infermiere, potevano capire perché egli vi andasse e vi rimanesse delle ore intere. Di che cosa parlasse e perché non prescrivesse delle ricette? Il suo procedere sembrava strano. Mikhail Averjanovich spesso non lo trovava a casa, cosa che prima non era mai successo e Dariushka era molto turbata perché il dottore non beveva la birra allora fissata e a volte perfino ritardava al pranzo. Una volta, si era già alla fine di giugno, il dottor Chobotov passò per una faccenda ad Andrea Yefimovic. Non trovandolo in casa andò a cercarlo nel cortile. Qui gli dissero che il vecchio dottore era andato dai pazzi. Entrato nel padiglione e fermatosi nella sala d'ingresso, Chobotov udì la seguente conversazione. «Noi non andremo mai d'accordo e voi non riuscirete a convertirmi alla vostra fede», diceva Ivan Mitrici irritato. «Voi non conoscete affatto la realtà e non avete mai sofferto, ma vivete soltanto come una sanguisuga sulle sofferenze altrui, mentre io ho sofferto ininterrottamente dal giorno della nascita fino ad oggi. Perciò vi dico apertamente, io mi considero più elevato di voi e più competente sotto tutti i rapporti. Non spetta a voi darmi delle lezioni». «Non ho affatto la pretesa di convertirvi alla mia fede», proseguì piano Andrea Yefimovic e con rammarico che non lo si volesse comprendere. La questione non è qui, amico mio. Non si tratta di sapere che voi avete sofferto e io no. Le sofferenze e le gioie sono passeggere, lasciamole stare. Dio le abbia in gloria. Il fatto è che noi due pensiamo. Noi vediamo l'uno nell'altro delle persone capaci di pensare e di ragionare e questo ci rende solidali, per diverse che siano le nostre opinioni. Se voi sapeste, amico mio, quanto mi urtano la demenza universale, l'incapacità, l'ottusità, con quale gioia io mi intrattengo ogni volta con voi. Voi siete un uomo intelligente e io con voi provo piacere». Ciobotov aprì un pochino la porta e diede uno sguardo nella camera. Ivan Dmitrici in berretto da notte e il dottore Andrea Yefimovic sedevano accanto sul letto. Il pazzo faceva delle smorfie, sussultava e incrociava convulsamente la veste da camera. Il dottore invece sedeva immobile a testa bassa e il suo viso era rosso, smarrito, triste. Ciobotov si strinse nelle spalle, sorrise e scambiò uno sguardo con Nikita. «Anche Nikita?» scrollò le spalle. Il giorno dopo Ciobotov arrivò al padiglione in compagnia dell'aiuto chirurgo. Tutti e due rimasero nel vestibolo ad ascoltare. Il nonnino, a quanto pare, ha perso la tramontana, disse Ciobotovicendo dal padiglione. «Signore, abbi pietà di noi peccatori», sospirò il magnifico Sergei Sergeits, tirando intorno alle pozzanghere con molta precauzione per non sporcarsi gli stivali lucidi. «Lo confesso, stimatissimo Eugenie Fedorich, me l'aspettavo da un pezzo». Da allora Andrei Efimic continuò a notare intorno a sé una certa aria di mistero. Gli servienti, la infermiera e i malati, incontrandolo, lo guardavano interrogativamente e poi mormoravano fra loro. La piccola maga, figlia del guardiano, che li amava incontrare nel giardino dell'ospedale, quando ora si avvicinava a lei con un sorriso per carezzarle la testolina, chissà perché sfuggiva lontano da lui. Il direttore delle poste, Mikhail Averjanovic, ascoltandolo, non diceva più «perfettamente vero», ma con un incomprensibile turbamento, borbotava «sì, sì», e lo guardava pensieroso e afflitto. Chissà perché, egli cominciò a consigliare al suo amico di astenersi dalla vodka e dalla birra, però, da uomo delicato, non glielo diceva direttamente, ma con allusioni, narrando ora ad un comandante di battaglione, uomo eccellente, ora di un cappellano regimentale, ottimo giovane, i quali bevevano e saranno ammalati, avevano smesso di bere e avevano riacquistata la salute. Due o tre volte venne da Andrei Efimic il collega Chobotov. Anche lui gli consigliava di astenersi dalle bevande alcoliche e, senza alcun motivo plausibile, gli raccomandava di prendere del bromuro. In agosto, Andrei Efimic ricevette dal sindaco una lettera con la preghiera di favorire da lui per un affare importantissimo. Recatosi il giorno stabilito al municipio, Andrei Efimic vi trovò il capo del reclutamento, l'ispettore scolastico del distretto, un membro del consiglio municipale. Chobotov è un certo signore grasso, biondo, che gli fu presentato come dottore. Questo dottore, dal cognome polacco, difficile a pronunciarsi, abitava a 30 verste di distanza in un allevamento di cavalli ed era in città di passaggio. Qui c'è un piccolo rapporto che vi riguarda, disse il membro del consiglio municipale rivolgendosi ad Andrei Efimic. Dopo che scambiati i saluti, tutti si furono seduti attorno alla tavola. Ecco, Eugenie Fiedoric dice che la farmacia è piuttosto stretta nell'edificio principale e che bisogna trasferirla in uno dei padiglioni. E' certamente una piccolezza e la si potrà trasferire, ma la causa principale è che il padiglione deve essere riparato. Sì, senza riparazioni non se ne fa nulla, disse Andrei Efimic dopo aver riflettuto. Se, per esempio, si vorrà adattare la farmacia al padiglione d'angolo, ci vorrà, io credo, un minimum di 500 rubli circa, una spesa improduttiva. Vi fu un po' di silenzio. Ebbi già l'onore di riferire a dieci anni fa, proseguì Andrei Efimic con voce sommessa, che questo ospedale, come attualmente, costituisce per la città un lusso superiore ai suoi mezzi. Esso è stato costruito dopo il 1840, ma allora c'erano altri mezzi. La città spende troppo in costruzioni inutili e in cariche superflue. Io credo che con questi denari sarebbe possibile, con altri ordinamenti, mantenere due ospedali modello. Allora, introduciamo degli altri ordinamenti, disse vivacemente il membro del consiglio municipale. Io ebbi già l'onore di proporre che si passasse il servizio medico sotto il controllo del consiglio provinciale. Sì, date i denari al consiglio provinciale ed esso ve li ruberà, disse il dottore Biondo. È la solita storia, disse approvando il membro del consiglio municipale, e si mise anche lui a ridere. Andrei Efimic gettò uno sguardo fiacco e torbido al dottore Biondo e disse, bisogna essere giusti. Di nuovo tacquero. Fu servito il tè. Il capo del reclutamento, chissà perché molto turbato, toccò attraverso la tavola la mano di Andrei Efimic, disse, ci avete dimenticati completamente, dottore. Del resto voi siete un monaco. Non giocate a carte, non amate le donne. Vi annoiate col prossimo. Tutti si misero a dire quanto fosse noioso per una persona come si deve vivere in quella città. Non c'era teatro né musica. E nell'ultima serata danzante al circolo c'erano una ventina di dame e soltanto due cavalieri. La gioventù non balla, ma si affulla sempre al buffet o gioca a carte. Andrei Efimic, con voce lenta e sommessa, senza guardare nessuno, cominciò a dire quanto rimpiangeva, quanto profondamente rimpiangeva che i concittadini sciupassero le loro energie, il loro cuore e la loro intelligenza nel giocare a carte e nel far pettegolezzi. E non sapessero, ne volessero passare il tempo in interessanti conversazioni e in letture. Non volessero godere i piaceri che dà l'intelligenza. Soltanto l'intelligenza è interessante e degna di rilievo. Tutto il resto è meschino e basso. Jobotov ascoltava attentamente il suo collega e ad un tratto domandò. Andrei Efimic, quanti ne abbiamo oggi? Ottenuta la risposta, lui e il dottore Biondo, col tono di esaminatori che sentono la propria incapacità, cominciarono a domandare ad Andrei Efimic che giorno era quello, quanti giorni ci sono nell'anno e se era vero che nella sala numero 6 viveva un'insigne profeta. Nel rispondere a quest'ultima domanda, Andrei Efimic arrossì e disse, sì, è un giovanotto malato, ma è interessante. Non gli fu più rivolta alcuna domanda. Mentre in anticamera gli si metteva il cappotto, il capo del reclutamento gli pose una mano sulla spalla e disse con un sospiro, per noi vecchi è tempo di riposarci. Uscito dal municipio, Andrei Efimic comprese che quella era una commissione incaricata di indagare sullo stato delle sue facoltà mentali. Ricordando le domande che gli erano state rivolte a Rossì e chissà perché, per la prima volta in vita sua, compianse amaramente la medicina. Dio mio, pensava egli ricordando come i medici poco prima l'avevano esaminato, costoro sono pure stati or non è molto alle lezioni di psichiatria. Hanno sostenuto degli esami. Di dove viene dunque questa loro crassa ignoranza? Essi non hanno la minima idea della psichiatria. E per la prima volta si sentì offeso e adirato. Nello stesso giorno, verso sera, venne da lui Mikhail Averjanovich. Senza salutarlo, il direttore delle poste gli si avvicinò e, presolo per tutte due le mani, disse con voce commossa. Mio caro, amico mio, datemi la prova che credete nel mio sincero attaccamento e mi stimate vostro amico, amico mio. E, impedendo ad Andrea e Fimice di parlare, continuò agitato. Io vi voglio bene per la vostra istruzione e per la vostra nobiltà d'animo. Ascoltatemi, mio caro, i precetti della scienza impongono ai dottori di nascondervi la verità, ma io da vecchio militare vi dirò la verità nuda e cruda. Voi siete malato. Scusatemi, mio caro, ma è la verità. Da un pezzo l'hanno notato tutti quelli che vi circondano. Il dottore Eugenie Fedorich mi diceva proprio ora che per rimettervi in salute avete assoluto bisogno di riposo e di distrazione. Perfettamente vero, giustissimo. In questi giorni io prenderò un congedo e me ne andrò a respirare altra aria. Datemi dunque una prova che mi siete amico e andiamo insieme. Andiamo, scrolliamoci di dosso la vecchiaia. Io mi sento in ottima salute, disse Andrea e Fimice dopo aver riflettuto. Non posso partire. Permettetemi di provarvi la mia amicizia in qualunque altra maniera. Andare chissà dove senza sapere perché, senza libri, senza Daliushka, senza birra. Spezzare bruscamente un ordine di vita che durava da vent'anni. Una simile idea nel primo momento gli parve una cosa assurda, fantastica. Ma egli si ricordò della conversazione che c'era stata al municipio e della penosa impressione provata tornando a casa e il pensiero di andarsene per qualche tempo dalla città dove degli stupidi lo ritenevano pazzo di sorrise. Ma voi dove avete intenzione di andare. A Mosca, a Pietroburgo, a Varsavia. A Varsavia ho passato cinque anni felici della mia vita. Che città meravigliosa. Andiamoci, caro mio. Una settimana dopo fu proposto ad Andrea e Fimice di riposarsi, cioè di andare in pensione. Cosa che gli accolse con indifferenza e dopo un'altra settimana con Mikhail Averjanovic era già seduto in una dirigenza postale diretto alla più vicina stazione farroviaria. Le giornate erano fresche, chiare. Le duecento verste fino alla stazione furono percorse in due giorni e durante il viaggio pernotarono due volte. Quando alle stazioni di posta servivano il tè in bicchiari mal lavati o ci mettevano troppo tempo ad attaccare i cavalli, Mikhail Averjanovic si faceva di porpora e tremando per tutto il corpo gridava, silenzio, non si discute. Seduto poi nella dirigenza senza smettere un momento, raccontava dei suoi viaggi nel Caucaso e nel regno di Polonia. Quante avventure aveva avute, quanti incontri. Egli parlava ad alta voce e intanto faceva degli occhi così meravigliati che si pensava che gli mentisse. Per di più, raccontando, soffiava in faccia ad Andrei Efimic e gli rideva all'orecchio. Questo metteva a disagio il dottore e gli impediva di pensare o di concentrarsi. In ferrovia viaggiarono per economia in terza classe, in una vettura per non fumatori. Il pubblico era per metà di persone pulite. Mikhail Averjanovic presto fece conoscenza con tutti e passando di sedile in sedile, diceva forte che era assurdo viaggiare su quelle orribili ferrovie. Una vera marioleria. È meglio andare a cavallo. In un giorno divori cento verste e poi ti senti sano e fresco. E il nostro cattivo raccolto proviene dal prosciugamento delle paludi di Pinsk. In generale, il disordine è spaventoso. Egli si scaldava, parlava forte e non lasciava parlare agli altri. Questo cicaleccio senza fine, mescolato con forti risate e gesti espressivi, stancò Andrei Efimic. Chi di noi due è pazzo, pensava egli con dispetto. Io, che cerco di non seccare per nulla i passeggeri, o questo egoista che pensa di essere qui più intelligente e più interessante di tutti e non lascia in pace nessuno. A mosca, Mikhail Averjanovic indossò una giacca militare senza spalline e un paio di pantaloni con bande rosse. Per la strada camminava in berretto e cappotto militare. I soldati gli facevano il saluto. Ad Andrei Efimic, egli appariva ora come un uomo che, di quanto un tempo aveva avuto di signorile, aveva sciupato tutto il buono e conservato soltanto il cattivo. Egli amava di essere servito anche quando ciò non era affatto necessario. Aveva i fiammiferi davanti a sé sulla tavola e li vedeva, ma gridava al cameriere che gli desse i fiammiferi. Non si prendeva scrupolo di passare in mutande davanti alla cameriera. Dava del tu senza distinzione a tutti i servi, anche se vecchi, e adirando si riqualificava di babbei e di imbecilli. Tutto ciò, così sembrava ad Andrei Efimic, era da signori, ma disgustoso. Prima di tutto Mikhail Averjanic condusse il suo amico alla cappella della Vergine di Beria. Egli pregò ardentemente con inchini fino a terra e le lacrime agli occhi e quando ebbe finito sospirò profondamente e disse, anche se non si crede, ti si sente in certo modo più tranquilli dopo aver pregato. Baciate l'immagine, caro. Andrei Efimic si confuse e andò a baciare l'immagine e Mikhail Averjanic, sporgendo le labbra e spotendo la testa, borbottò delle preghiere e di nuovo gli vennero le lacrime agli occhi. Poi si recarono al cremblino a vedere il cannone zar e la campana zar e li toccarono anzi con le dita, ammirarono la seduta ad oltre Moscova, visitarono la chiesa del Salvatore e il museo Rumiancev. Pranzarono da Testov. Mikhail Averjanic esaminò a lungo la lista dei cibi, carezzandosi le fedine, e disse col tono di un ghiottone abituato a sentirsi al ristorante come a casa sua, vediamo che cosa ci darete da mangiare oggi, angelo bello. Il dottore camminava, guardava, mangiava, beveva, ma provava un solo sentimento, dispetto contro Mikhail Averjanic. Avrebbe voluto riposarsi da questa continua comunanza con l'amico, avrebbe voluto lasciarlo, nascondersi, ma l'amico riteneva il suo dovere non allontanarsi da lui nemmeno di un passo e procurargli quante più distrazioni fosse possibile. Quando non c'era nulla da vedere, lo distraeva coi discorsi. Andrei Efimic lo sopportò due giorni, ma il terzo dichiarò all'amico che non stava bene e che voleva rimanere in casa tutto il giorno. L'amico disse che in tal caso anche lui sarebbe rimasto, ma in realtà bisognava riposarsi, se no le gambe non avrebbero più servito. Andrei Efimic si coricò sul divano, con la faccia verso la spalliera e serrando i denti ascoltava l'amico, il quale gli assicurava con calore che la Francia presto o tardi avrebbe immancabilmente vinto la Germania, che a Mosca c'erano moltissimi furfanti e che non è possibile giudicare delle qualità di un cavallo dalla sua apparenza esteriore. Il dottore cominciò a sentire un ronzio negli orecchi e il batticuore, ma per delicatezza non si decideva a pregar l'amico di andarsene o di tacere. Per fortuna Mikhail Averjanic si annoiò a restare in camera e dopo pranzo uscì a passeggiare. Rimasto solo, Andrei Efimic si abbandonò alla sensazione del riposo. Come è gradito giacere immobile su di un divano, avendo coscienza di essere solo nella stanza? La vera felicità è impossibile senza la solitudine. L'angelo caduto tradì Dio probabilmente perché desiderava la solitudine che gli angeli non conoscono. Andrei Efimic voleva pensare a quello che aveva perduto negli ultimi giorni, ma Mikhail Averjanic non gli usciva di testa. Egli ha preso dunque un congedo ed è venuto via con me per amicizia, per magnanimità, pensava il dottore con dispetto. Non c'è niente di peggio di questa tutela amichevole. Sembra un buon uomo e generoso e bontempone, ma è noioso, intollerabilmente noioso. Ci sono anche degli uomini che dicono sempre parole elevate e buone, ma senti che sono degli stupidi. Nei giorni seguenti Andrei Efimic continuò a dirsi malato e non uscì di camera. Egli stava coricato sul divano con la faccia verso la spalliera e si stancava quando l'amico voleva distrarlo coi suoi discorsi e si riposava quando l'amico era assente. Era irritato con se stesso per essere partito e con l'amico che di giorno in giorno diventava sempre più ciarliero e disinvolto. Non gli riusciva in nessuna maniera di dare ai suoi pensieri un corso serio ed elevato. Ecco che penetra in me quella realtà di cui parlava Ivan Dimitrich, pensava adirandosi per la propria meschinità. Nel resto sono sciocchezze, ritornerà a casa e tutto andrà come in passato. Anche a Pietroburgo fu lo stesso. Per giornate intere egli non uscì di camera e stette coricato sul divano, alzandosi soltanto per bere della birra. Michael Averianici insisteva sempre per andare a Varsavia. Ma mio caro, a che scopo? Diceva Andrei Efimic con voce supplichevole. Partite solo e permettete che io me ne vada a casa, ve ne prego. A nessun costo, protestava Michael Averianic. È una città meravigliosa. Io vi ho passato i cinque anni più felici della mia vita. Andrei Efimic non aveva abbastanza carattere per resistere e facendo violenza al proprio cuore partì per Varsavia. Qui non uscì mai di camera, se ne stava coricato sul divano, arrabbiandosi con se stesso, con l'amico e coi camerieri, i quali si rifiutavano ostinatamente di capire il russo. Ma Michael Averianic, sano, alacre e allegro come al solito, passeggiava per la città dalla mattina alla sera in cerca dei suoi vecchi conoscenti. Alcune volte passò la notte fuori. Dopo una notte passata, non si sa dove, tornò a casa il mattino presto in uno stato di forte eccitazione, rosso e spettinato. Camminò a lungo da un angolo all'altro, borbottando qualche cosa fra sé. Poi si fermò e disse, l'onore prima di tutto. Dopo aver camminato ancora un poco, si prese la testa fra le mani e disse con voce tragica. Sì, l'onore prima di tutto. Sia maledetto il momento in cui mi è passato per la testa di venire in questa Babilonia. Mio caro, si rivolse al dottore, disprezzatemi, ho perduto al gioco. Datemi 500 rubli. Andrei Efimic contò 500 rubli e in silenzio riporse all'amico. Questi, ancora tutto rosso di vergogna e di collera, proferisco onnessamente un inutile giuramento, si mise il berretto e uscì. Tornato dopo un paio d'ore, si lasciò cadere su di una poltrona e sospirando forte disse, l'onore è salvo. Andiamo, amico mio. Non voglio restare neppure un minuto in questa maledetta città. Furfanti, spie dell'Austria! Quando i due amici tornarono nella loro città, era già novembre e sulle strade si stendeva alta la neve. Il posto di Andrei Efimic era stato occupato dal dottor Chobotov. Egli abitava ancora nel vecchio appartamento in attesa che Andrei Efimic tornasse e sgomberasse l'appartamento dell'ospedale. La donna brutta, che egli chiamava la sua cuoca, abitava già in uno dei padiglioni. In città correvano nuove chiacchiere circa all'ospedale. Si diceva che la donna brutta avesse litigato con l'economo e che costui si fosse trascinato in ginocchio dinnanzi a lei chiedendole perdono. Andrei Efimic, fin dal primo giorno del suo ritorno, dovette cercarsi un appartamento. Amico mio, gli disse timidamente il direttore delle poste, scusatemi per la domanda indiscreta. Di quali mezzi disponete? Andrei Efimic contò in silenzio i suoi denari e disse di 86 rubli. Non vi domando questo, proferì Mikhail Averjanovich confuso. Non vi domando questo, proferì Mikhail Averjanovich confuso, non avendo capito il dottore. Vi domando che mezzi avete in generale. Ma se vi dico 86 rubli, non ho nient'altro. Mikhail Averjanovich stimava il dottore un uomo onesto e nobile. Tuttavia sospettava che avesse un capitale di almeno 20.000 rubli. Ora, avendo saputo che Andrei Efimic era povero e non aveva di che vivere, chissà perché si mise ad un tratto a piangere e abbracciò l'amico. Andrei Efimic abitava in una casetta a tre finestre presso la piccola borghese Belova. In questa casetta c'erano soltanto tre stanze senza contar la cucina. Due di esse, con le finestre sulla strada, le occupava il dottore. Nella terza e nella cucina abitavano Dariuska e la donna con tre bambini. Qualche volta veniva a passare la notte dalla padrona e il suo amante, un contadino ubriacone che faceva baccano e spaventava i bambini e Dariuska. Quando arrivava e sedutosi in cucina cominciava a chiedere vodka, poiché tutti finivano col trovarsi molto stretti, il dottore per pietà prendeva con sé i bambini che piangevano e li faceva colicare nella sua camera sul pavimento e questo gli procurava un gran piacere. Egli si alzava come prima alle otto e dopo il tè si sedeva a leggere i suoi vecchi libri e riviste. Per comprarne dei nuovi non aveva più denari, forse perché i libri erano vecchi o forse per il cambiamento di ambiente, la lettura non lo afferrava più nell'intimo e lo stancava. Per non passare il tempo in ozio si mise a fare un catalogo minuto dei libri sul cui dorso incollava delle etichette e questo lavoro meccanico e minuzioso gli pareva più interessante della lettura. Il lavoro monotono e minuzioso cullava in modo incomprensibile il suo pensiero. Egli non pensava a nulla e il tempo scorreva rapido. Anche sedersi in cucina e sbucciare insieme con Dariusca le patate o pulire il grano saraceno gli sembrava interessante. Il sabato e la domenica andava in chiesa, in piedi accanto al muro, con gli occhi socchiusi, egli ascoltava il canto e pensava al padre, alla madre, all'università, alle religioni. Si sentiva calmo, triste e poi uscendo di chiesa rimpiangeva che il servizio divino fosse terminato così presto. Due volte andò all'ospedale da Ivan Dmitrich per discorrere con lui, ma tutte e due le volte Ivan Dmitrich era estremamente eccitato e cattivo. Egli pregò di essere lasciato in pace, poiché da molto tempo gli erano venute annoia le vane ciance e diceva che una sola cosa chiedeva in compenso delle sue sofferenze alla gentaccia maledetta, di essere segregato. Era mai possibile che gli rifiutassero anche questo? Tutte e due le volte che Andrei Efimic si congedò da lui e gli augurò la buonanotte, egli ringhiò e rispose al diavolo. E Andrei Efimic non sapeva se dovesse andare da lui una terza volta oppure no, ma aveva desiderio di andarci. Un tempo Andrei Efimic dopo pranzo camminava per le stanze e pensava. Ora invece dalla fine del pranzo fino al tè della sera stava coricato sul divano con la faccia verso la spalliera e si abbandonava a pensieri meschini che non poteva in alcun modo vincere. Si sentiva offeso perché dopo più di vent'anni di servizio non gli avevano dato né la pensione né un sussidio una volta tanto. In verità egli non aveva servito con onestà, però la pensione la ricevono tutti gli impiegati senza distinzione, onesti o no. La giustizia contemporanea consiste appunto nel fatto che gradi, decorazioni e pensioni non sono un premio delle qualità morali e delle capacità, ma del servizio in generale, qualunque esso sia stato. Perché soltanto lui doveva costituire un'eccezione. Egli era del tutto privo di denaro. Aveva vergogna di passare davanti alla bottega e di guardare la padrona di casa. Doveva già 32 rubli per la birra. Era pure in debito con la belora. Dariusca di nascosto vendeva dei vecchi vestiti e dei libri e mentiva con la padrona dicendo che presto il dottore avrebbe ricevuto moltissimo denaro. Egli si adirava con se stesso per aver sprecato nel viaggio i mille rubli che aveva raggranellati. Come avrebbero fatto comodo adesso quei mille rubli. Si stizziva perché la gente non lo lasciava in pace. Chobotov stimava suo dovere visitare di tanto in tanto il collega ammalato. Tutto in lui ripugnava ad Andrei Efimic il suo viso sazio e il tono cattivo e condiscendente e la parola collega e gli stivaloni alti. E la cosa più ripugnante poi era che egli si considerasse obbligato a curare Andrei Efimic e credesse in realtà di curarlo. A ogni visita gli portava una boccetta di bromuro e delle pillole di rabarbaro. Anche Mikhail Avrianic stimava il suo dovere far visita all'amico e distrarlo. Ogni volta egli entrava da Andrei Efimic con finta disinvoltura ridendo forzatamente e cominciava ad assicurarlo che quel giorno aveva una magnifica cera e che gli affari grazie a Dio si andavano aggiustando e da questo si poteva concludere che gli giudicava la situazione del suo amico disperata. Egli non aveva ancora pagato il suo debito di Varsavia ed era oppresso da una penosa vergogna. Si trovava a disagio e perciò si sforzava di ridere più forte e di raccontare in modo più ridicolo. I suoi aneddoti e i suoi racconti sembravano ora senza fine ed erano tormentosi per Andrei Efimic e per lui stesso. In sua presenza Andrei Efimic di solito si stendeva sul divano col viso verso la parete e ascoltava stringendo i denti. Sulla sua anima si depositava a strati la schiuma dell'ira e dopo ogni visita egli sentiva che la schiuma diventava sempre più alta e già arrivava alla gola. Per soffocare i propri sentimenti meschini egli si affrettava a pensare che tanto lui quanto Ciobotov e Mikael Averianic presto o tardi dovevano morire senza lasciare nella natura la minima traccia. Se ci si immagina che dopo un milione di anni uno spirito verrà a volare negli spazi vicini al globo terrestre egli non vedrà che creta e nude rocce. Tutto e la cultura e la legge morale sarà scomparso. Non ci sarà più nemmeno la bardana. Che significavano dunque la vergogna dinanzi al bottegaio, la nullità di Ciobotov, la gravosa amicizia di Mikael Averianic? Tutte queste cose non erano che assurdità e sciocchezze. Ma semili considerazioni non servivano più. Appena egli si raffigurava il globo terrestre dopo un milione di anni ecco che di dietro a una roccia nuda spuntava Ciobotov in stivaloni alti o Mikael Averianic che rideva forzatamente e si udiva perfino un timido mormorio. Quanto al debito di Barsavia, caro, lo pagherò in questi giorni immancabilmente. Un giorno Mikael Averianic arrivò dopo pranzo quando Andrei Efimic era colicato sul divano. Accadde che proprio in quel momento capitasse anche Ciobotov col brumuro. Andrei Efimic si sollevò penosamente e si sedette appoggiandosi con tutte e due le mani al divano. Oggi, mio caro, cominciò Mikael Averianic, il vostro colorito è assai migliore di ieri. Ma siete un giovanottino? Per Dio, un giovanottino! È tempo, è tempo che vi rimettiate, collega, disse Ciobotov sbadigliando. Credo che questa lungaggine abbia stancato anche voi. E ci rimetteremo, disse allegramente Mikael Averianic. Vivremo ancora cent'anni, proprio così. Cento no, ma venti ci si può arrivare, lo confortava Ciobotov. Non è niente, non è niente, collega, non vi scoraggiate. Basta di far venire malinconia. Faremo vedere chi siamo, sghignazzò Mikael Averianic, battendo sulle ginocchia dell'amico. Faremo vedere chi siamo. N'estate prossima, se Dio vuole, ce ne andremo al Caucaso e lo gireremo tutto a cavallo. Hop, hop, hop. E tornati dal Caucaso, guarda un po', ci divertiremo alle nozze. Mikael Averianic strizza furbescamente un occhio. Vi sposeremo, amicuccio caro, vi sposeremo. Andrei Efimic a un tratto sentì la schiuma montargli alla gola. Il suo cuore si mise a battere terribilmente. Questo volgare, disse alzandosi rapido e allontanandosi verso la finestra, proprio non capite che dite delle volgarità. Egli voleva continuare in tono pacato e cortese, ma contro la propria volontà a un tratto strinse i pugni e li levò al di sopra della testa. Lasciatemi in pace, gridò con una voce mutata, diventando paonazzo e tremando in tutto il corpo. Fuori, fuori, tutti e due, tutti e due. Mikael Averianic e Chobotov si alzarono e lo fissarono dapprima con perplessità, poi con paura. Fuori tutti e due, continuò a gridare Andrei Efimic. Idioti, stupidi, non ho bisogno né della tua amicizia né delle tue medicine, stupido individuo. È una volgarità, una porcheria. Chobotov e Mikael Averianic, guardandosi l'un l'altro sconcertati, indietreggiarono verso la porta e uscirono nell'anticamera. Andrei Efimic afferrò la boccetta del bromuro e la scaraventò loro dietro. La boccetta si spezzò con fracasso sulla soglia. Andate al diavolo, gridò con voce come di pianto, correndo in anticamera. Al diavolo! Dopo l'uscita degli ospiti, Andrei Efimic, tremando come se avesse la febbre, si coricò sul divano e ancora per lungo tempo ripete, idioti, stupidi. Quando si calmò, prima di tutto gli venne in mente che il povero Mikael Averianic doveva avere una tremenda vergogna e un gran peso sull'anima e che tutto ciò era orribile. Mai prima gli era capitato nulla di simile. Dov'erano dunque l'intelligenza e il tatto, dove la comprensione delle cose e l'indifferenza filosofica. Tutta la notte il dottore non poteva prendere sonno per la vergogna e l'ira contro se stesso. La mattina poi, verso le dieci, si avviò all'ufficio postale e si scusò col direttore. Non staremo a ricordare quel che è accaduto, disse con un sospiro Mikael Averianic, stringendogli forte la mano. A chi ricorderà il passato gli si cavi un occhio. Liubavkin, gridò ad un tratto così forte che tutti gli impiegati di posta e il pubblico sussultarono. Dammi una sedia e tu aspetta, gridò a una donna che gli tendeva attraverso lo sportello una lettera raccomandata. Non lo vedi che sono occupato? Non staremo a ricordare il passato, continuò dolcemente volgendosi ad Andrei Efimic. Sedetevi, ve ne prego umilmente, mio caro. Per un minuto egli si accarezzò in silenzio i ginocchi. Poi disse, non me ne è pur passato per la mente di offendermi. Con la malattia non si scherza, lo capisco. Il vostro accesso di ieri ha spaventato tanto me quanto il dottore e abbiamo poi parlato a lungo di voi. Mio caro, perché non volete occuparvi seriamente della vostra malattia? È mai possibile continuare così? Scusate la mia franchezza d'amico, balbetò Mikael Averianic. Voi vivete nell'ambiente più sfavorevole? Strettezza, sporcizia, mancanza di cure e di medicine? Mio caro amico, ve ne supplico di tutto cuore assieme al dottore. Entrate all'ospedale. Là avrete cibo sano, cure e medicamenti. Eugenie Fedorich, benché a dirla fra noi, siamo l'educato. È tuttavia competente e ci si può fidare pienamente di lui. Egli mi ha dato la sua parola che si occuperà di voi. Andrei Efimici fu toccato da questa sollecitudine sincera e dalle lacrime che a un tratto brillarono sulle guance del direttore delle poste. Stimatissimo amico, non credete, balbetò egli mettendosi una mano sul cuore, non credete loro, è un inganno. La mia malattia consiste soltanto in questo, che in vent'anni ho trovato in questa città un solo uomo intelligente. E questo è un pazzo. Non ho alcuna malattia, ma semplicemente sono caduto in un cerchio incantato, dal quale non c'è uscita. Per me fa lo stesso. Sono pronto a tutto. Entrate all'ospedale, mio caro. Per me fa lo stesso, anche in una fossa. Datemi la vostra parola, caro, che ascolterete in tutto Eugenie Fedorich. E sia, vi do la mia parola, ma lo ripeto, aggreggio amico, io sono caduto in un cerchio incantato. Adesso tutto. Anche la sincera partecipazione dei miei amici tende a un unico fine, la mia rovina. Io perisco e ho il coraggio di rendermene conto. Caro, voi guarirete? Perché dir questo? disse Andrea Efimic con irritazione. Sono pochi gli uomini che alla fine della loro vita non provano quel che io provo adesso. Quando vi dicono che avete qualche cosa come i reni cattivi o l'ipertrofia di cuore, e voi cominciate a curarvi. Oppure quando vi dicono che siete un pazzo o un delinquente, vale a dire in una parola, quando la gente tutto a un tratto rivolge la sua attenzione su di voi, sappiate allora che siete caduto in un cerchio incantato, da cui non uscirete più. Più vi sforzerete di uscirne e più ancora vi ci perderete. Rassegnatevi perché non vi sono più sforzi umani che vi possano salvare. Così almeno sembra a me. Frattanto allo sportello si affollava il pubblico. Andrea Efimic, per non disturbare, si alzò e si congedò. Michael Averianic si fece dare ancora una volta la parola d'onore e lo accompagnò fino alla porta esterna. Quello stesso giorno verso sera, da Andrea Efimic, comparve inaspettatamente Chobotov, in pelliccia corta e stivaloni alti, e gli disse, con un tono come se la sera innanzi non fosse accaduto nulla, «Sono venuto da voi per una faccenda, collega. Sono passato a domandarvi se volete fare un consulto con me». Pensando che Chobotov lo volesse distrarre con una passeggiata, o che, in realtà, gli volesse dar da guadagnare, Andrea Efimic si vestì e uscì con lui sulla strada. Egli era felice dell'occasione di poter riparare la sua colpa del giorno innanzi e di farla pace, e nell'anima ringraziava Chobotov, il quale non aveva neppur fatto allusione a ciò che era accaduto alla vigilia, ed evidentemente aveva dei riguardi per lui. Da quell'individuo non colto era difficile di aspettarsi una simile delicatezza. «E dov'è il vostro malato?» domandò Andrea Efimic. «Da me, nell'ospedale. Già da tempo ve lo volevo mostrare. È un caso interessantissimo». Entrarono nel cortile dell'ospedale, e fatto il giro dell'edificio principale, si diressero verso il padiglione dove erano ricoverati i pazzi. E tutto questo chissà perché in silenzio. Quando entrarono nel padiglione, Michita come al solito balzò in piedi e si mise sull'attenti. «A un malato è sopravvenuta una complicazione ai polmoni», disse a mezza voce Chobotov entrando nella camera con Andrea Efimic. «Aspettatemi qui, torno subito. Vado a prendere lo stetoscopio». E uscì. Scendeva la notte. Ivan Dmitrich giaceva nel suo letto col viso affondato nel guanciale. Il paralitico sedeva immobile. Piangeva in silenzio e muoveva le labbra. Il grasso contadino e l'ex ripartitore dormivano. Tutto era tranquillo. Andrea Efimic sedette sul letto di Ivan Dmitrich e attese. Ma passata mezz'ora, invece di Chobotov, entrò nella stanza Nikita, tenendo su una bracciata, una veste da camera, della biancheria e delle pantofole. «Favorite di vestirvi, vostra nobiltà», disse gli piano. «Ecco il vostro lettino. Favorite qui», aggiunse indicando un letto vuoto, evidentemente portato lì da non molto. «Non è niente, grazie a Dio. Guarirete». Andrea Efimic comprese tutto. Senza dirne nemmeno una parola, si avvicinò al letto che gli aveva indicato Nikita e si sedette. Vedendo che Nikita stava ritto in attesa, si spogliò fino a restar nudo e ne sentì vergogna. Poi indossò il vestito dell'ospedale. Le mutande erano molto corte, la camicia era lunga e la veste da camera sapeva di pesce affumicato. «Se Dio vorrà, guarirete», ripetè Nikita. Egli raccolse in una bracciata i vestiti di Andrea Efimic e uscì, chiudendo dietro di sé la porta. «Fa lo stesso», pensava Andrea Efimic, avviluppandosi vergognoso nella veste da camera e sentendo che nel suo nuovo costume somigliava a un forzato. «Fa lo stesso», «Fa lo stesso», «il frac», «la divisa», «questa veste d'ospedale». «Ma è l'orologio», «è il libricino degli appunti che stava nella tasca laterale», «e le sigarette»? «Dove» «Dove» Nikita aveva portato i vestiti. Ora, forse, fino alla morte, non gli sarebbe più accaduto di infilarsi i pantaloni, il panciotto e gli stivali. Tutto questo era in certo modo strano e perfino incomprensibile nei primi momenti. Andrea Efimic anche ora era convinto che fra la sua casa della Belova e la sala numero 6 non c'era alcuna differenza, che tutto a questo mondo è assurdità e vanità, ma intanto gli tremavano le mani, i piedi gli gelavano e lo angosciava il pensiero che presto Ivan Dmitrich si sarebbe alzato e avrebbe veduto che anche egli era in veste da camera. Si alzò, fece qualche passo e si sedette di nuovo. Ecco, è là, seduto già da mezz'ora, da un'ora e si annoia fino allo spasimo, che davvero è possibile vivere un giorno, una settimana e perfino degli anni come quegli uomini. Ed ecco che si è seduto di nuovo, ha camminato un po' e si è seduto di nuovo. Si poteva anche andare a guardare dalla finestra e camminare di nuovo da un angolo all'altro, e poi restare sempre così seduto, come un idolo, a pensare. No, questo non era possibile. Andrei Efimic si coricò, ma subito si alzò e si asciugò con la manica e il sudor freddo sulla fronte e sentì che tutto il suo viso puzzava di pesce affumicato. Si mise di nuovo a camminare. Questo è un equivoco, proferì, allargando le braccia. Bisogna spiegarsi, qui c'è un equivoco. Intanto si era svegliato Ivan Dmitrich. Egli si mise a sedere appoggiando le guance ai pugni, sputò, poi lanciò uno sguardo pigro al dottore, ed evidentemente nel primo momento non comprese nulla, ma ben presto il suo viso assonnato divenne cattivo e sarcastico. Ah, 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 anche voi hanno ficcato qui, tesoro, proferì con la voce rauca del dormiveglia, strizzando un occhio felicissimo. Un tempo avete succhiato il sangue alla gente e adesso lo succhieranno a voi, magnificamente. Questo è un equivoco, disse Andrea Yefimic, spaventato dalle parole di Ivan Dmitrich. Crollò le spalle e ripetè, è un equivoco. Ivan Dmitrich sputò di nuovo e si coricò. Maledetta vita, borbottò. E quel che è amaro e oltreggioso è che questa vita non termina con una ricompensa per le sofferenze, e non termina con una apoteosi come al teatro, ma con la morte. Verranno gli inservienti e trascineranno il cadavere per le mani e per i piedi nel sotterraneo. Brrrr, non importa. In cambio all'altro mondo verrà la nostra festa. Dall'altro mondo ricomparire qui sotto forma di ombra, a spaventare queste canaglie. Farà venire loro i capelli bianchi. Tornò Moiseica e vedendo il dottore tese la mano. Dammi una copeca, disse. Andrea Yefimic andò alla finestra e guardò i campi. Cominciava già a farsi buio e sull'orizzonte a destra spuntava la luna, fredda a paonazza. Non lontano dalla cinta dell'ospedale, a poco più di cento sagen, sorgeva un alto edificio bianco, circondato da un muro di pietra. Era la prigione. Ecco la realtà, pensò Andrea Yefimic, ed ebbe un senso di paura. Erano terribili, e la luna, e la prigione, e le punte sullo steccato, e la fiamma lontana del forno crematorio. Alle sue spalle si udì un sospiro. Si voltò a guardare e vide un uomo che aveva delle stelle brillanti e delle decorazioni sul petto e sorrideva ammiccando furbescamente con un occhio. Anche questo gli parve terribile. Cercò di convincersi che nella luna e nella prigione non c'era nulla di speciale, che anche le persone psichicamente sane portano le decorazioni e che tutto col tempo si sarebbe decomposto e trasformato in argilla. Ma la disperazione a un tratto si impadroniti lui e gli afferrò la grata con le mani e la scosse con tutte le sue forze. La solida grata non cedette. Poi, per aver meno paura, si avvicinò al letto di Ivan Dmitrich e si sedette. Mormorò tremando e asciugandosi il sudor freddo. Mi sono perso d'animo. E voi fate della filosofia, disse sarcasticamente Ivan Dmitrich. Dio mio, Dio mio, sì, sì. Voi un tempo mi avete detto che in Russia non c'è filosofia, ma che tutti filosofeggiano, anche la gentuccia. Però il filosofare della gentuccia non è dannoso a nessuno, disse Andrei Efimic con un tono quasi volesse piangere e muovere a compassione. Perché, mio caro, questo riso maligno è come quella gentuccia non dovrebbe filosofeggiare se non è contenta. Un uomo intelligente, colto, orgoglioso e indipendente, fatto ad immagine di Dio, non trova altre vie di uscita che andare come medico in una sporca e stupida cittaduzza ad applicare ventose, sanguisughe e senapismi per tutta la vita. C'ha lataneria, mesquinità, volgarità. Oh, Dio mio! Voi state cianciando scioccamente. Se vi ripugnava fare il medico, dovevate fare il ministro. Non si può riuscire a nulla, a nulla. Noi siamo deboli, caro. Io ero indifferente, ragionavo in modo ardito e sano. Ma è bastato solo che la vita mi toccasse rudemente per farmi perdere d'animo, per prostrarmi. Noi siamo deboli, vili. E voi pure, mio caro. Voi siete intelligente, nobile e con il latte della madre avete succhiato nobili inclinazioni. Ma appena siete entrato nella vita, vi siete esaurito e ammalato. Deboli! Deboli! Qualche cosa di importuno, oltre la paura e il risentimento dell'offesa, tormentava Andrei Efimic da quando era scesa la sera. Finalmente trovò che era il desiderio di bere della birra e di fumare. Io me ne andrò di qui, mio caro, disse. Dirò che ci diano dei lumi. Non posso stare così. Non sono in grado. Andrei Efimic andò alla porta e l'aprì, ma subito Nikita balzò in piedi e gli sbarrò il passo. Dove andate? Non si può, disse. È ora di andare a letto. Ma io esco solo per un minuto. Vado a passeggiare in cortile, disse timidamente Andrei Efimic. Non si può, non si può, è proibito. Lo sapete anche voi. Nikita sbatté la porta e vi si appoggiò con la schiena. Ma se io esco di qui che male ne viene? domandò Andrei Efimic stringendosi nelle spalle. Non capisco Nikita, io devo uscire, disse egli con voce tremante. Ne ho bisogno. Non portate qui il disordine, non sta bene, disse Nikita con tono a monitore. Il diavolo lo sa cos'è, questo, gridò ad un tratto Ivan Dimitric balzando in piedi. Che diritto ha di non lasciarci andare? Come osano tenerci qui? Nella legge, mi pare, è detto chiaramente che nessuno può essere privato della libertà senza giudizio. Questa è violenza, è arbitrio. Certamente, è un arbitrio, disse Andrei Efimic, incoraggiato dal grido di Ivan Dimitric. Ho bisogno di uscire. Egli non ha il diritto. Lasciami andare, ti dico. Intendi, stupido animale, gridò Ivan Dimitric e picchiò col pugno sulla porta. Apri, sennò sfondo la porta. Scorticatore. Apri, apri, gridò Andrei Efimic tremando in tutto il corpo. Lo esigo. Ripetilo ancora, rispose dietro la porta Nikita. Ripetilo. Almeno, va a chiamare Eugenie Fedorich. Digli che io lo prego di venire per un momento. Domani verrà da sé. Non ci faranno uscire mai, continuava a far tanto Ivan Dimitric. si lasceranno marcire qui. Oh signore, è mai possibile che in realtà nell'altro mondo non ci sia inferno e che questi mascalzoni siano perdonati. Dov'è la giustizia? Apri, mascalzone. Io soffoco, gridò con voce rauca, scagliandosi contro la porta. Mi fracasserà la testa. Assassini! Nikita aprì rapido la porta. Respinse brutalmente con tutte e due le mani e col ginocchio Andrei Efimic, poi alzò il braccio e lo colpì col pugno in viso. Parve ad Andrei Efimic che una enorme ondata salata lo coprisse dalla testa ai piedi e lo tracinasse verso il letto. In realtà egli sentiva in bocca un sapore salato. Probabilmente gli usciva sangue dalla bocca. Come se volesse nuotare egli si mise ad agitar le braccia e si afferrò ad un letto e intanto sentì che Nikita lo colpiva due volte alla schiena. Ivan Dimitric gettò un alto grido. Probabilmente battevano anche lui. Poi tutto tacque. La luce fiocca della luna filtrava attraverso la grata e sul pavimento giaceva un'ombra simile a una rete. Era terribile. Andrei Efimic si coricò e trattenne il respiro e gli si attendeva con spavento che lo picchiassero ancora. Gli pareva che qualcuno avesse preso una falce e gliela fondasse nel corpo e rigirasse nel petto e nelle viscere. Dal dolore addentò il guanciale e si serrò i denti e a un tratto in mezzo al caos gli ballenò chiaro in mente il terribile e intollerabile pensiero che un dolore proprio uguale avevano dovuto provarlo per anni. Un giorno dopo l'altro quegli uomini che ora sotto il raggio della luna parevano nere ombre. Come era potuto accadere che per lo spazio di più di vent'anni egli non l'avesse saputo o non l'avesse voluto sapere. Egli non aveva conosciuto e non aveva avuto nozione del dolore. Non era dunque colpevole ma la coscienza intrattabile e dura come Nikita gli fece provare un senso di freddo dalla testa ai piedi. Saltò su volle gridare con tutte le sue forze e precipitarsi ad uccidere Nikita poi Chobotov il custode e l'aiuto chirurgo poi se stesso ma dal suo petto non uscì un suono e le gambe non gli ubbidirono. Ansando si strappò sul petto la veste da camera e la camicia e cadde privo di sensi sul letto. Il mattino dopo gli doleva la testa gli fischiavano gli orecchi e in tutto il corpo sentiva male. Ricordarsi della sua debolezza del giorno innanzi non gli dava vergogna. Il giorno prima era stato pusillanime aveva avuto paura perfino della luna aveva manifestato apertamente dei sentimenti e dei pensieri che prima nemmeno sospettava in sé per esempio i pensieri sul malcontento della gentuccia filosofeggiante ma adesso tutto gli era indifferente. Non mangiò non beve giacqua immobile in silenzio per me è lo stesso pensava quando gli facevano delle domande non risponderò per me è lo stesso. Dopo pranzo arrivò Mikhail Averjanic e gli portò un quarto di libra di tè e una libra di marmellata. Venne pure Dariushka e per un'ora intera rimase dritta accanto al letto con un'aria di ottusa tristezza. Lo venne a visitare anche il dottor Chobotov gli portò una boccetta di bromuro e ordinò a Nikita di bruciare qualche cosa nella camera. Verso sera Andrei Efimich morì di un colpo apoplettico. Da principio gli sentì un brivido che lo scosse tutto e nausea e sembrò che qualche cosa di ripugnante penetrando in tutto il corpo persino nelle dita gli salisse dallo stomaco alla testa e gli ricoprisse gli occhi e gli orecchi. I suoi occhi videro verde comprese che era la fine e si ricordò che Ivan Dmitrich Mikhail Everjanic e milioni di uomini credevano nell'immortalità e se veramente ci fosse ma egli non voleva l'immortalità e ci pensò soltanto un attimo un branco di cervi straordinariamente belli e graziosi di cui aveva letto il giorno innanzi gli passò davanti correndo poi una donna gli porse una lettera raccomandata Mikhail Everjanic disse qualche cosa poi tutto scomparve e Andrei Efimic perdette i sensi per sempre vennero gli inservienti lo presero per le braccia e per le gambe e lo portarono nella cappella là egli giacque sulla tavola con gli occhi aperti e di notte la luna lo illuminò il mattino dopo venne Sergei Sergei pregò devotamente sul crocefisso e chiuse gli occhi del suo ex superiore di lì a un giorno Andrei Efimic fu sepolto ai funerali c'erano soltanto Mikhail Everjanic e Dariuszka che c'erano che c'erano che c'erano Grazie a tutti. Grazie a tutti.